Ciao, noi siamo i ForMed, io sono Giulia e io sono Francesco. Sulla nostra pagina potete trovare tre video lezioni sulla cellula, sulle macromolecole, su bioenergetica insieme appunto a MAP e a QUIZ e potete trovare anche due dispense, una sul sistema immunitario e una sugli ormoni. Restate sintonizzati perché il nostro obiettivo sarà quello di creare una serie di pacchetti completi che copriranno tutta la teoria di biologia in modo da poter fornire un supporto più completo. Ciao, io sono Gerardo Iannone di Dentro alla Logica, mi occupo di logica, matematica e fisica e in questa simulazione ho curato appunto le domande di questa materia. Sulla mia pagina Instagram e sul mio canale YouTube troverete tantissimi esercizi di queste materie con cui preparare il vostro test di ammissione all'università. Sono in vendita inoltre i miei videocorsi di logica, di matematica e fisica e potete contattarmi agli estremi che trovate nella descrizione di questo video. Ciao, io sono Alberto di Easy Chimica, anch'io ho tutti i link all'interno di questi video sulla mia pagina Instagram dove trovate tutto il programma didattico, vari link utili nel Linktree come il website e tutta la nostra proposta e in più 8500 quesiti di chimica già risolti. E poi se volete fare un salto all'interno del mio canale YouTube trovate il corso di nomenclatura gratuito e di logica del quesito. Spero che questa simulazione ti sia utile e ora passiamo a vedere un attimino un paio di dettagli su come poter avere il testo. Allora, come vedi, se sei capitato su questo video senza prima passare dalle nostre pagine Instagram, per avere il testo della simulazione bastano quattro semplicissime azioni. La prima è quella di seguire le tre pagine Instagram, quella di Gerardo dentro la logica, la mia e quella di Informed. Ricordati di lasciare like al post e di taggare almeno tre amici diversi nei commenti, non taggare noi stessi nei account fate. Ultima cosa è quella di iscriversi al canale sul quale stai vedendo questo video, dentro la logica, e quello di Easy Chimica, che trovi, come ha detto Gerardo, in descrizione. Compiute le tre azioni, scrivi ad uno dei tre account a tua scelta tramite la direct message di Instagram e noi ti manderemo un link al quale potrai avere accesso alla prova e anche esclusivamente alla graduatoria della simulazione TOLC 2023. Ti annuncio già che se ti è piaciuta questa simulazione o se ti piacerà non dimenticarti di seguirci su Instagram a gennaio, dove uscirà un post molto molto importante nel quale presenteremo il nostro progetto didattico di simulazioni. Saranno infatti disponibili dieci simulazioni, tutte curate da me, da Dentro la Logica e da Informed, strutturata esattamente come questo, ovvero avrai la tua prova e dopodiché avrai un video completo di risoluzione su ogni singolo quesito per tutti i quesiti della prova, qualcosa che è veramente difficile trovare. Ed in più, per non farti mancare nulla, ci sarà un gruppo Telegram dedicato ai soli corsisti dove potremo rispondere ad alcuni dei vostri dubbi. E ora via con Informed per la risoluzione di tutti i quesiti. Ciao a tutti ragazze e ragazzi, io sono Giulia del team di Informed. Con me inizierete la correzione della simulazione dei. Se siete arrivati qua, sicuramente quindi l'avrete svolta e spero che vi sia piaciuta. Come avete visto, iniziamo da una parte di comprensione del testo e di conoscenze acquisite, quindi sette quiz che abbiamo deciso di dividere in una parte appunto prettamente di comprensione e in una parte di quiz sia diretti che indiretti di cultura generale, proprio per mantenere fresche le vostre conoscenze. Quindi una volta diciamo corretti questi sette quesiti passeremo alla parte di biologia e i primi quiz ve li spiegherò io, dopodiché continuerete con Francesco. Buona correzione! Bene, quindi adesso cominciamo subito con il quesito 1. Allora, la legge della dilatazione dei tempi porta a una strana conseguenza che apparentemente non si riesce a spiegare. Si tratta di quello che inizialmente venne definito paradosso degli orologi e che nel 1911 il fisico francese Paul Langevin ribattezzò più felicemente paradosso dei gemelli. Il paradosso dei gemelli è un risultato paradossale che deriva da un esperimento teorico volto a mostrare che le leggi della relatività ristretta non possono essere applicate nel contesto dei sistemi di riferimento non inerziali. Chi fu il padre della relatività? Allora, anche se appunto alle superiori, al liceo, non si è studiato la relatività ristretta, non si è studiata magari fisica a livelli così approfonditi, sappiamo tutti che il padre della relatività è Albert Einstein. Quindi la risposta corretta è la D. Spendendo due parole sul paradosso dei gemelli è quel paradosso per cui due gemelli si ritrovano a essere invecchiati in modo differente dopo che uno dei due parte per un viaggio nello spazio. E abbiamo visto questo fenomeno ad esempio nel film Interstellar perché appunto è il paradosso su cui si basa, da cui ha preso ispirazione il film. Tra le altre opzioni troviamo Harry Bergson che in realtà è un filosofo e poi dopo appunto Gauss, Schrödinger e Maxwell che sono fisici che però appunto non c'entrano niente con la relatività. Quesito 2 Allora, questo quesito è un quesito di comprensione del testo e ovviamente non sto a leggere tutto il testo e quindi una volta letto il testo passiamo quindi alle opzioni. Dato il seguente testo quale delle seguenti affermazioni non è direttamente deducibile? Opzione A La valuta permette al detentore di acquistare titoli commerciati solo in quella valuta. Allora, andando a ritrovare nel testo il pezzo in cui appunto viene spiegato questo concetto vediamo che una valuta può considerarsi infatti come un bene in quanto offre al detentore un servizio ovvero la possibilità di acquistare beni o titoli commerciati solo in quella valuta. Quindi l'opzione A è deducibile appunto dal brano. Opzione B Il turismo comporta sia un'importazione che un'esportazione di beni. Ritrovando il pezzo nel testo in cui se ne parla vediamo che appunto gli scambi commerciali incluso il turismo il turismo infatti comporta un'importazione di beni da parte del turista e corrispondentemente un'esportazione di beni da parte del paese che riceve il turista. Quindi l'opzione B è direttamente deducibile dal testo. Opzione C Il tasso di cambio nominale dipende dalla variazione della domanda e dell'offerta. Anche questa è deducibile. Infatti possiamo subito vedere che così come avviene per qualsiasi bene il prezzo di una valuta subisce variazioni per effetto di cambiamenti che riguardano la domanda e l'offerta. Quindi l'opzione C è deducibile. Opzione D Il tasso di cambio nominale dipende esclusivamente dalle banche centrali che possono acquistare o vendere una valuta straniera. Continuando invece nel brano vediamo subito che in parte le banche centrali possono influire sul tasso di cambio acquistando o vendendo una valuta straniera. La componente restante della domanda e dell'offerta è costituita invece dagli altri operatori eccetera. Quindi l'opzione D non è deducibile dal testo perché appunto il tasso di cambio nominale non dipende esclusivamente dalle banche centrali. Quindi la risposta corretta a questo quesito è l'opzione D Quesito 3 Thomas Elliot elaborò il cosiddetto correlativo oggettivo e lo definì come segue una serie di oggetti una situazione una catena di eventi pronta a trasformarsi nella formula di un'emozione particolare. Quali tra questi autori italiani lo utilizzò nelle sue opere? Giacomo Leopardi Carlo Goldoni Pierpaolo Pasolini Eugenio Montale Salvatore Quasimodo L'espressione correlativo oggettivo fu utilizzata appunto per la prima volta da Elliot che coniò questo concetto. Elliot visse indicativamente tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento e coniò appunto questo termine correlativo oggettivo per spiegare la sua idea diciamo di poesia per cui la poesia non deve esprimere le emozioni ma piuttosto trovare nella realtà concreta e quotidiana degli oggetti delle situazioni dei fatti capaci di evocare l'emozione. Quindi anche solo se ci ricordiamo un pochino che cos'è il correlativo oggettivo possiamo facilmente arrivare in realtà alla soluzione del quesito perché solo uno di questi scrittori utilizza in maniera caratteristica dei fatti delle immagini appunto delle immagini quotidiani per evocare nel lettore un'emozione e vediamo un attimo le varie opzioni molto molto brevemente per arrivare alla soluzione. Allora Leopardi innanzitutto visse tra gli ultimissimi anni del Settecento e i primi anni del 1800 morì nel 1837 Eliot come abbiamo visto nacque alla fine dell'Ottocento quindi sicuramente anche solo per questioni diciamo tempistiche non può essere Leopardi l'autore che utilizzò il correlativo oggettivo di Eliot nei suoi lavori poi vabbè non sarò io di certo a dovervi spiegare perché cosa è famoso Leopardi però appunto possiamo citare le poesie dell'Infinito a Silvia la Ginestra il sabato del villaggio però in nessuno di queste diciamo viene utilizzato il correlativo oggettivo opzione B Carlo Goldoni Carlo Goldoni anche qui è errata perché innanzitutto Carlo Goldoni visse nel Settecento quindi ben prima che nascesse Thomas Eliot e in secondo luogo perché appunto Carlo Goldoni è stato un famoso commediografo viene ritenuto appunto il padre della commedia moderna possiamo ricordare ad esempio Lalo Candiera come la sua opera principale però appunto sicuramente non utilizzò il correlativo oggettivo opzione C Pierpaolo Pasolini allora Pierpaolo Pasolini tempisticamente siamo abbastanza nel periodo di Elliot però appunto Pasolini è stato un artista tutto tondo per scrittura poesia anche attore registra regista però appunto non è famoso per il correlativo oggettivo alcune sue opere possono essere da ricordare per il test possono essere appunto scritti corsari e ragazzi di vita dopodiché abbiamo l'opzione D Eugenio Montale Eugenio Montale nacque appunto nel 1896 morì nel 1981 quindi periodo perfetto proprio in concomitanza con Thomas Elliot e infatti fu colui che utilizzò anche nelle sue opere il concetto di correlativo oggettivo la poesia ad esempio Spesso il male di vivere ho incontrato è l'esempio lampante di questa modalità espressiva dove appunto anche qui Montale utilizza delle immagini come il rivo strozzato che gorgoglia e comunque l'incartocciarsi della foglia per evocare appunto nel lettore questa emozione ovvero il male di vivere Eugenio Montale inoltre tradusse anche un'opera di Elliot quindi è appunto colui che utilizzò il correlativo oggettivo infine l'opzione E Salvatore Quasimodo Salvatore Quasimodo fa parte è l'esponente di rilievo dell'ermetismo e alcune sue poesie più importanti sono appunto è subito sera alle fronde dei salici e visse all'inizio visse appunto nel primo nella prima metà del novecento possiamo dire dal 1901 al 1968 però appunto essendo l'esponente dell'ermetismo non utilizzò il correlativo oggettivo ma altre appunto caratteristiche tipiche di questa corrente quindi opzione corretta di Eugenio Montale quesito quattro il quesito quattro è un altro quesito di comprensione del testo e in particolare il brano che abbiamo scelto per questo quesito parla della liberalizzazione delle droghe anche qui non sto a leggere l'intero testo quindi passiamo direttamente alle opzioni e cerchiamo di capire qual è appunto l'opzione incorretta allora A la depenalizzazione della marijuana porterebbe enormi guadagni allo Stato andiamo a trovare quindi nel brano il pezzo dove si tratta di questo argomento e andiamo a trovare che secondo gli antiproibizionisti una legislazione permissiva assicurerebbe enormi entrate fiscali allo Stato quindi la depenalizzazione della marijuana porterebbe enormi guadagni allo Stato è corretta B la legalizzazione della marijuana comporta l'istituzione di un libero mercato anche qui andiamo a trovare il pezzo dove si parla appunto della legalizzazione e liberalizzazione della marijuana nel brano e sono appunto le ultime righe dove troviamo che si propongono così due opzioni l'istituzione di un libero mercato della marijuana liberalizzazione o una commercializzazione controllata della sostanza da parte dello Stato legalizzazione quindi la legalizzazione della marijuana non comporta l'istituzione di un libero mercato perché quella è la liberalizzazione la legalizzazione comporta la commercializzazione controllata da parte dello Stato quindi la B è l'opzione incorretta vediamo brevemente la C e la D secondo i proibizionisti non va fatta distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere è corretta infatti appunto se ritroviamo questo pezzo nel brano leggiamo che ritengono inaccettabile i proibizionisti si sta parlando dei proibizionisti ritengono inaccettabile la distinzione tra droghe leggere e pesanti e sostengono che la legalizzazione non assicurerebbe alcun beneficio economico sociale alla collettività quindi opzione C è corretta opzione D l'abrogazione della legge Fini-Giovanardi ha riacceso il dibattito sulla liberalizzazione delle droghe leggere questa è corretta infatti nelle primissime righe vediamo che il dibattito sulla liberalizzazione delle droghe leggere si è rianimato dopo l'abrogazione della legge Fini-Giovanardi quindi quesito abbastanza semplice abbastanza immediato per cui si arriva alla conclusione che l'opzione B è l'opzione corretta quesito 5 allora le ballerine di Degas sono il soggetto per cui è famoso Edgar Degas e a cui l'artista si è dedicato a partire dagli anni settanta del diciannovesimo secolo e fino alla morte nel 1917 le ballerine alla sbarra a riposo oppure durante le prove sono state una fonte inesauribile di ispirazione per Edgar Degas che ha rappresentato un'incredibile varietà di gesti e posture in tutte le sue opere a quale movimento artistico appartiene Edgar Degas opzione A romanticismo B cubismo C espressionismo D fovismo e impressionismo questo quiz in realtà è molto semplice perché appunto se si hanno delle conoscenze anche base di storia dell'arte Degas è sicuramente molto famoso quindi si arriva subito in maniera diretta alla risposta però appunto vediamo un attimo tutte le opzioni per cercare di arrivare anche per esclusione nel caso in cui non ci si ricordasse chi è Edgar Degas allora il romanticismo il romanticismo ebbe inizio all'incirca nel 1770 dopodiché si diffuse in tutta Europa nel diciottesimo secolo il romanticismo però è una corrente artistica che è famosa per la rappresentazione del sublime quindi della natura nelle sue forme più estreme quindi diciamo che il soggetto delle ballerine non rientra in ciò che è il caposaldo del romanticismo quindi il romanticismo può essere facilmente escluso ricordiamo magari qualche opera del romanticismo quella più importante è sicuramente viandante sul mare di nebbia appunto l'opera più emblematica del romanticismo di Friedrich però appunto possiamo anche ricordare la libertà che guida il popolo di Delacroix e la zattera della medusa di Jericho queste sono appunto le opere insieme a tante altre del romanticismo dopodiché abbiamo il cubismo allora il cubismo in realtà nacque nel 1907 circa quindi all'inizio del novecento vediamo che Edgar Degas morì nel 1917 quindi anche qui altamente improbabile che Edgar Degas facesse parte del cubismo infatti gli esponenti del cubismo da ricordare sono sicuramente Pablo Picasso e le caratteristiche appunto del cubismo è che utilizzavano l'uso di forme geometriche colori monocromatici quindi hanno rivoluzionato la rappresentazione artistica della realtà poi abbiamo l'espressionismo l'espressionismo forse è tra tutti l'opzione che può mettere un po' più in crisi l'espressionismo nacque immediatamente dopo come reazione al naturalismo e all'impressionismo dell'espressionismo ricordiamo in particolare Van Gogh e Edouard Munch con appunto l'urlo che è famosissimo in generale quindi l'espressionismo utilizza un linguaggio artistico enfatizzato che rappresenta le emozioni e le sensazioni in modo appunto fortemente caratterizzato al di là del realistico quindi anche qui il tema delle ballerine di Degas non rientra in quello che è l'espressionismo arriviamo al fovismo anche il fovismo nacque nel nel 1900 fu un movimento d'avanguardia e l'esponente principale sicuramente appunto è Matisse e il il fovismo appunto è caratterizzato dal fatto che venivano utilizzati questi colori vivaci molto innaturali puri sgargianti e venivano appunto abolite le prospettive eccetera quindi e anche qui il fovismo non rientra con anche qui il tema delle ballerine di Degas non rientra nel nel fovismo arriviamo a quella che è l'opzione corretta ovvero la E l'impressionismo l'impressionismo anche cronologicamente rientra di più nel periodo in cui è vissuto Degas infatti nacque in Francia tra il 1860 al 1880 e il quadro emblema il manifesto diciamo dell'impressionismo è Impressione Soleil Levant di Monet infatti Monet fu diciamo l'esponente principale dell'impressionismo a cui però appunto bisogna aggiungere Manet Renoir e Degas Degas infatti con le ballerine rientra in quello che è l'impressionismo quindi opzione corretta E Allora senza entrare nel dettaglio nella spiegazione di ogni evento ricordiamo che opzione A Aldo Moro fu sequestrato dalle Brigate Rosse a Roma nel 1978 opzione B strage di Piazza Fontana fu conseguenza appunto di un attentato terroristico avvenuto a Milano presso la Banca Nazionale nel 1969 opzione C strage di Capaci la strage di Capaci fu un attentato di stampo mafioso avvenuto nel 1992 per uccidere appunto il magistrato Giovanni Falcone quindi 1992 l'attentato alla stazione di Bologna invece avvenne nel 1980 rimasero uccise 85 persone quindi 1980 appunto infine tangentopoli conosciuta anche come mani pulite nel 1992 è appunto un termine utilizzato per definire un sistema diffuso di corruzione politica infatti fu appunto il nome giornalistico dato a questa serie di inchieste giudiziarie avvenute appunto negli anni 90 quindi dalle date si evince che l'avvenimento che è avvenuto precedentemente agli altri è la strage di Piazza Fontana quesito 7 ultimo quesito della parte di comprensione del testo book non leggeva i giornali altrimenti sarebbe venuto a conoscere le tribolazioni che si stavano preparando non solo per lui ma per ogni cane di guardia forte di muscoli e dal lungo e soffice pelo da Puget Sound a San Diego le righe precedenti sono l'incipit di un celebre romanzo di Jack London di quale dei seguenti romanzi si tratta a Tenere la notte b Le avventure di Tom Sawyer c Il libro della giungla d La montagna incantata e Il richiamo della foresta per rispondere a questo quiz bisogna semplicemente sapere bisogna per forza ricordarsi qual è il libro più famoso appunto di Jack London allora Tenere la notte in realtà è stato scritto da Fitzgerald che è più famoso per il libro Il grande Gatsby Le avventure di Tom Sawyer è stato scritto da Mark Twain Il libro della giungla da Rudyard Kipling La montagna incantata da Thomas Mann Il richiamo della foresta invece appunto è il celebre romanzo il romanzo più famoso in assoluto di Jack London quindi opzione corretta e Il richiamo della foresta bene quindi con il quesito 7 abbiamo terminato la parte di comprensione del testo e conoscenze acquisite passiamo quindi invece adesso alla parte di biologia con il quesito 8 allora quale di queste cellule non è una APC antigen present in cell A macrofagi B cellule dendritiche C mastociti D linfociti B e tutte le cellule sopracitate sono APC allora perché abbiamo deciso di iniziare la parte di biologia con un quiz sul sistema immunitario sappiamo benissimo in realtà che l'immunologia non è uno degli argomenti cardine del test di medicina come può essere ad esempio la cellula la divisione cellulare Mendel infatti è uno di quegli argomenti che solitamente almeno negli ultimi anni compare con un solo quiz di solito ogni tanto e al tempo stesso è un argomento apparentemente a primo impatto abbastanza complicato quindi unendo le due cose solitamente lo studente medio che si prepara il test tende a snobbare l'immunologia e il sistema immunitario in realtà giocando ad astuzia quindi è fondamentale prepararsi anche su questi argomenti che non sono così frequenti non sono così impattanti sul test di medicina perché magari non sono presenti due o tre quiz come appunto per quanto riguarda la mitosi la meiosi come accade per questi argomenti ma se ci andiamo a preparare anche su questi argomenti non perdendo troppo tempo quindi non diventando specializzati in immunologia ma acquisendo una conoscenza adeguata per rispondere a questa tipologia di quiz allora lì vedremo la differenza allora lì il nostro punteggio inizierà a discostarsi mano a mano che rispondiamo anche a quiz su questi argomenti inizierà a discostarsi appunto dal punteggio medio inizieremo a fare punti in quei quiz che appunto lo studente medio solitamente fa fatica a rispondere quindi è molto importante studiare anche appunto il sistema immunitario e tutti quegli argomenti secondari quindi chiusa questa parentesi ritorniamo al quiz e partiamo appunto con la definizione di cellula presentante all'antigene allora la cellula presentante all'antigene è quella cellula che ha il compito di riconoscere gli agenti patogeni fagocitarli digerirli internalizzare gli antigeni e processarli per poi dopo presentarli ai linfociti T quindi presentandoli ai linfociti T sappiamo subito che il ruolo fondamentale della cellula dendritica sia appunto nell'immunità adattiva cellulo mediata dove i protagonisti sono appunto i linfociti T ora sappiamo che all'interno del gruppo appunto cellula presentante all'antigene rientrano più tipologie cellulari quindi adesso tra le opzioni dobbiamo andare a escludere quella che non rientra nel gruppo appunto delle cellule presentanti all'antigene partiamo quindi dai macrofagi allora molto brevemente i macrofagi derivano appunto dai monociti che sono appunto cellule mononucleate con nucleo a forma di fagiolo molto caratteristico e una volta che i monociti per diapedesi fuoriescono appunto dal circolo ematico e raggiungono i tessuti si trasformano in macrofagi che hanno appunto il compito a livello locale quindi a livello tessutale di rimuovere i detriti e fagocitare i microorganismi quindi i macrofagi anche semplicemente conoscendo il compito dei macrofagi il ruolo dei macrofagi ovvero quello di fagocitare rimuovere i detriti è abbastanza intuitivo pensare che appunto facciano parte delle cellule presentanti l'antigene infatti rientrano nella categoria di cellule presentanti l'antigene B cellule dendritiche le cellule dendritiche sono le cellule presentanti l'antigene per eccellenza infatti le cellule dendritiche hanno il solo ruolo di presentare l'antigene ai linfociti T mentre i macrofagi sono cellule presentanti l'antigene ma che hanno in realtà un ruolo primario differente le cellule dendritiche hanno come unico scopo quello di presentare l'antigene quindi fagocitano gli agenti patogeni li digeriscono li digeriscono li internalizzano e processano appunto l'antigene per poi presentarlo ai linfociti T quindi anche le cellule dendritiche sono cellule presentanti l'antigene vediamo invece i mastociti i mastociti invece hanno il compito di rilasciare mediatori chimici tra cui prima di tutto l'istamina quindi molto importante ricordarsi mastociti istamina e l'istamina sappiamo che è una appunto delle molecole fondamentali nelle reazioni allergiche quindi ricordiamoci mastociti reazioni allergiche perché perché rilasciano prima di tutto istamina questo è il compito dei mastociti in primo luogo però appunto quindi non sono cellule che presentano l'antigene quindi sappiamo già che la risposta a questo quiz è la C però appunto continuiamo con l'opzione D perché i linfociti B fanno parte delle cellule presentanti l'antigene perché i linfociti B hanno sì come ruolo primario quello di attivarsi diventare plasma cellule quindi di produrre anticorpi quindi sono i protagonisti dell'immunità adattiva umorale perché appunto producono anticorpi ovvero le immunoglobuline ma hanno come ruolo secondario quello di cooperare con i linfociti T fungendo appunto da cellule presentanti l'antigene quindi presentano l'antigene ai linfociti T che potranno quindi svolgere la loro funzione nell'ambito dell'immunità adattiva cellulo mediata quindi linfociti B come ruolo secondario hanno anche quello appunto di presentare l'antigene linfociti T quindi quale di queste cellule non è una APC la risposta è la C i mastociti come avrete notato non mi sono soffermata molto sulla spiegazione dell'immunità adattiva umorale dell'immunità adattiva cellulo mediata perché noi appunto abbiamo fatto una dispensa sull'intero sistema immunitario quindi una dispensa molto completa ma al tempo stesso rapida non eccessivamente approfondita con cui appunto si hanno tutte le conoscenze necessarie per superare qualsiasi quiz vi venga proposto nel test sull'immunologia quindi appunto non mi sono soffermata molto perché lo ritrovate sulla nostra pagina questa dispensa passiamo quindi al quesito 9 allora il diabete mellito di tipo 2 è una malattia cronica che rappresenta il 90% di tutti i casi di diabete in questa patologia il recettore dell'insulina che è un recettore trasmembrano appartenente alla famiglia dei recettori tirosinchinasici e presente in numerosi tessuti fra cui il tessuto adiposo il tessuto muscolare scheletrico e il fegato non funziona correttamente si instaura quindi la cosiddetta insulino resistenza quali delle seguenti funzioni sarà quindi compromessa A stimolazione della glicogenosintesi B stimolazione della gluconeogenesi C stimolazione della lipolisi D stimolazione del catabolismo proteico e nessuna delle precedenti ecco ecco un'altra tipologia di quiz che è abbastanza destabilizzato gli studenti che hanno provato l'anno scorso il test di medicina ovvero quiz con un incipit abbastanza lungo abbastanza complesso che a primo impatto può appunto spaventare perché sembra che il quiz richieda diciamo conoscenze iper approfondite che magari appunto si pensa di non possedere in realtà quello che dobbiamo fare davanti a questa tipologia di quiz è innanzitutto non andare nel panico quindi razionalizzare cosa stiamo leggendo e ricavare dall'incipit del quiz la domanda secca che in realtà ci viene posta perché appunto anche nei quiz dell'anno scorso che poi dopo abbiamo visto l'incipit era sì molto complicato molto dettagliato ma in realtà la domanda poteva essere diciamo ricondotta a conoscenze base della biologia quindi anche in questo caso in realtà non spaventiamoci davanti all'introduzione che parla di recettori trasmembrana tirosinchinasici e cerchiamo di capire che cosa ci sta chiedendo in realtà che cosa ci sta dicendo in realtà l'incipit allora sappiamo che il diabete mellito di tipo 2 è appunto una patologia legata all'alterazione nella regolazione della glicemia quali sono appunto i valori della glicemia a digiuno facciamo appunto un breve ripasso anche su questo allora i valori della glicemia a digiuno sono sono ottimali se rientrano fra i 60 e i 100 mg per decilitro quindi che cosa accade accade che nel diabete mellito di tipo 2 la glicemia a digiuno è solitamente molto più alta di questo range se siamo tra i 100 e i 125 parliamo di prediabete sopra al 126 parliamo di diabete vero e proprio nel diabete mellito di tipo 2 che cosa accade l'insulina in realtà viene prodotta dalle cellule beta del pancreas ma sono appunto i recettori a non funzionare quindi l'insulina viene prodotta ma non si attiva la trasduzione del segnale da parte dei recettori quindi l'insulina non ha diciamo la funzione non può esplicare la funzione che normalmente appunto ha nella regolazione del metabolismo proprio perché i recettori non fanno partire la trasduzione del segnale anche se l'insulina viene prodotta qui abbiamo la differenza con il diabete mellito di tipo 1 invece che in quel caso invece è proprio l'insulina a non essere prodotta non è il recettore che non funziona ma è l'insulina che non viene prodotta dalle cellule beta del pancreas quindi ritornando al quiz come avviene la regolazione della glicemia tramite essenzialmente due ormoni il glucagone e l'insulina il glucagone è l'ormone deputato all'innalzamento della glicemia l'insulina è deputata invece a abbassare la glicemia detto ciò sappiamo quindi che l'insulina interviene nel momento in cui la glicemia è eccessivamente alta ad esempio dopo un pasto quindi l'insulina è un ormone anabolizzante è un ormone che permette di immagazzinare di togliere il glucosio eccessivo presente nel sangue e di immagazzinarlo appunto nei tessuti in particolare appunto nel tessuto adiposo sotto forma di trigliceridi perché sappiamo che gli zuccheri vengono convertiti anche appunto in trigliceridi nel momento in cui sono presenti in maniera eccessiva tessuto muscolare scheletrico e fegato sotto forma appunto di glicogeno quindi ripetiamo insulina ormone anabolizzante permette l'immagazzinamento delle risorse all'interno dei tessuti facendo quindi questi ragionamenti vedete che riusciamo a ricondurre quell'incipit a conoscenze base appunto della della bioenergetica della regolazione ormonale detto ciò quindi sapendo che l'insulina è un ormone ipoglicemizzante andiamo a vedere le opzioni allora partiamo dall'opzione A stimola la glicogenosintesi la glicogenosintesi quindi è quel processo attraverso il quale si forma glicogeno è compatibile con la funzione dell'insulina sì perché appunto l'insulina stimola l'immagazzinamento di glucosio sotto forma di glicogeno quindi si stimola la glicogenosintesi infatti come vedremo quale delle funzioni sarà quindi compromessa la A la stimolazione della glicogenosintesi proprio perché è il processo che viene stimolato dall'insulina che in questo caso non può stimolarlo ma vediamo le altre opzioni e capiamo perché sono errate allora la B stimolazione della gluconeogenesi capiamo subito che è errata perché ricordando appunto la funzione dell'insulina è ovvio che è inutile nel momento in cui è presente insulina produrre ulteriore glucosio proprio perché l'insulina viene prodotto quando il glucosio è presente in quantità eccessive quindi la gluconeogenesi è in realtà un processo stimolato dal glucagone che è un ormone iperglicemizzante quindi la gluconeogenesi non viene stimolata dall'insulina quindi non sarà compromessa nel momento in cui il recettore non funziona stessa cosa per la lipolisi la lipolisi è il processo attraverso il quale vengono degradati appunto i grassi per produrre energia nel momento in cui viene rilasciata insulina siamo in una condizione in cui dobbiamo immagazzinare l'energia in eccesso quindi la lipolisi non è una delle vie metaboliche diciamo stimolate dall'insulina di stimolazione del catabolismo proteico anche qui non è un processo stimolato dall'insulina perché è un processo catabolico che insieme alla lipolisi viene stimolata in realtà dal glucagone quindi insulina ormone anabolizzante ormone ipoglicemizzante stimola in realtà la glicogenosintesi quindi quale delle seguenti funzioni sarà compromessa la A stimolazione della glicogenosintesi quindi come vedete anche se non si sa a memoria quali sono uno per uno le vie metaboliche stimolate dall'insulina e quali sono invece stimolate dal glucagone con un ragionamento anche abbastanza semplice partendo da quali sono le funzioni base dell'insulina e del glucagone si può rispondere molto facilmente appunto a questa tipologia di quiz che all'inizio sembra essere abbastanza complicata passiamo quindi al quesito 10 quale delle seguenti affermazioni riguardanti la traduzione del dna è corretta a le subunità del ribosoma si assemblano solo in seguito al legame con l'mrna b sia nei procarioti che negli eucarioti il processo di traduzione inizia solo dopo la conclusione del processo di trascrizione c il primo sito del ribosoma a cui si legano i tRNA è il sito p d a livello del sito e si crea la catena polipeptidica e a ogni mRNA si può legare al massimo un ribosoma alla volta partiamo dall'opzione a e cerchiamo di capire una a una quale di queste è corretta quale errata allora le subunità del ribosoma si assemblano solo in seguito al legame con l'mrna è la risposta corretta in realtà perché appunto le subunità del ribosoma eucariotico sono come in realtà anche nel prokariote subunità maggiore subunità minore negli eucarioti abbiamo la subunità maggiore con coefficiente 60s la subunità minore con coefficiente 40s e queste due subunità appunto si assemblano solo in seguito al legame con l'mrna quindi questa è la risposta corretta vediamo però appunto perché le altre sono sbagliate allora opzione b sia nei prokarioti che negli eucarioti il processo di traduzione inizia solo dopo la conclusione del processo di trascrizione questa opzione è errata perché in realtà sia nei prokarioti che negli eucarioti il processo di trascrizione e di traduzione avviene contemporaneamente la differenza fra prokarioti e eucarioti ricordiamolo molto importante è che nei prokarioti non presentando il nucleo la trascrizione e la traduzione avvengono contemporaneamente nel citoplasma negli eucarioti invece trascrizione e traduzione avvengono contemporaneamente però la trascrizione all'interno del nucleo la traduzione invece all'interno del citoplasma c il primo sito del ribosoma a cui si legano i tRNA è il sito p errato perché il primo sito del ribosoma a cui si legano i tRNA è in realtà il sito a il sito p è dove avviene appunto l'allungamento del peptide come possiamo vedere appunto il sito p è dove è presente la catena polipeptidica come si vede in questa immagine opzione d a livello del sito e si crea la catena polipeptidica è errata perché appunto come abbiamo appena detto si crea a livello del sito p a livello del sito e invece che è l'ultimo sito presente nel ribosoma quindi sito a p e ape si va invece a localizzare il tRNA che deve essere espulso quindi appunto il sito di uscita del ribosoma e a ogni mRNA si può legare al massimo un ribosoma alla volta anche questa opzione è in realtà errata perché ogni mRNA si possono legare più ribosomi anzi si legano più ribosomi formando quelli che vengono chiamati appunto poliribosomi e in questo modo il processo di traduzione avviene in maniera molto molto più rapida quindi opzione corretta opzione a le subunità del ribosoma si assemblano solo in seguito al legame con l'mRNA quiz 11 quale delle seguenti opzioni rappresenta il corretto ordine della classificazione dei viventi dal gruppo più ampio al meno ampio non sto a leggere tutte le opzioni però appunto possiamo già escluderne in realtà due la A e la D partendo dal presupposto che sicuramente si parte con il regno e a questo proposito nella nostra pagina potete trovare un post scorrendo un po' nei post più vecchi dove abbiamo creato appunto questa mnemofrase per ricordarci l'ordine della classificazione che è appunto domenico resta per cena ora facciamo gli spaghetti quindi di di dominio resta regno per filum cena classe ora ordine facciamo famiglia gli genere spaghetti specie quindi dominio regno filum classe ordine famiglia genere specie quindi l'opzione corretta in questo caso è l'opzione B Lucia è affetta da emofilia una malattia ereditaria trasmissione x-linked recessiva si sposa con Mario che è sano e hanno due figli Giulia e Luca qual è la probabilità che il primo figlio di Giulia sia maschio e affetto da emofilia A due terzi B un mezzo C un quarto D tre ottavi e uno allora partiamo con fare un breve recap su quali sono appunto le malattie a trasmissione x-linked recessiva allora l'emofilia però poi dopo abbiamo anche il daltonismo e la distrofia di Duchenne consiglio caldamente di imparare per ogni tipologia di trasmissione le principali malattie perché non sempre nel quiz viene specificato di che trasmissione si tratta in questo caso l'abbiamo specificato però appunto se ad esempio acquisterete i pacchetti il nostro pacchetto di simulazioni vedrete che in altri quiz proprio per aumentare la difficoltà non abbiamo specificato di che trasmissione si tratta quindi consiglio caldamente di imparare le principali malattie e la trasmissione allora in questi tipi di quiz si parte quindi con il quadrato di pannet disegnando i quadrati di pannet ecco i nostri quadrati di pannet sono due perché questo quiz si basa essenzialmente su due generazioni prima dobbiamo capire la situazione di giulia quindi dall'unione di lucia e mario e poi dopo dobbiamo capire la situazione di dei figli di giulia che appunto si sposa con luca quindi servono due quadrati di pannet ben distinti qual è la caratteristica della trasmissione x-linked recessiva la caratteristica della trasmissione x-linked recessiva è che gli uomini possono essere o sani o malati perché appunto gli uomini presentano un solo cromosoma x e il cromosoma y quindi se il cromosoma x presenta l'allele recessivo sono direttamente malati se invece presenta l'allele dominante sono sani la donna è un po' più complicata perché appunto presentando due cromosomi x le situazioni sono tre o presenta entrambi gli alleli dominanti quindi è sana o presenta entrambi gli alleli recessivi e quindi è malata come nel caso di lucia in questo caso oppure presenta un allele dominante e un allele recessivo e quindi è portatrice sana quindi ricordiamo che nelle malattie a trasmissione x-linked recessiva per i motivi che abbiamo appena visto solo le donne possono essere portatrici sane qui qui abbiamo la situazione di lucia affetta da emofilia affetta da emofilia quindi presenta due alleli recessivi si sposa con mario che è sano quindi presenta sul cromosoma x per forza l'allele dominante sano e dalla loro unione vediamo che con un 50% di probabilità nascono maschi con un 50% di probabilità nascono femmine nel 50% di probabilità che nascano maschi i maschi sono tutti malati perché prendono dal padre il cromosoma y e quindi in automatico prenderanno dalla madre il cromosoma x i cromosomi x entrambi i cromosomi x di lucia sono con l'allele recessivo quindi i maschi per forza saranno malati però appunto dato che parliamo di giulia quindi la donna la figlia femmina di lucia e mario siamo nella situazione in cui si ha appunto 50% donne e tutte le donne di questo 50% saranno portatrici sane perché perché prendono un cromosoma x dal padre che presenta l'allele dominante quindi è sano e un cromosoma x dalla madre che presenta l'allele recessivo quindi è malato quindi l'unione fra cromosoma x con l'allele dominante e cromosoma x con l'allele recessivo porta alla situazione di portatrici sane quindi giulia è per forza portatrice sana di emofilia che cosa accade quindi allora giulia si sposa con luca sappiamo che giulia è portatrice sana luca non sappiamo in realtà se è malato oppure se è sano proviamo comunque a costruire il quadrato di pannet e per la donna appunto non sappiamo in realtà completare la situazione perché appunto non sappiamo il cromosoma x del padre che le donne ereditano perché ereditano un cromosoma x dalla madre e uno dal padre però nei maschi che è quello che ci sta chiedendo il quiz abbiamo invece la situazione completa che per essere appunto maschi ereditano dal padre il cromosoma y quindi il cromosoma x sarà ereditato sempre dalla madre allora in questo caso vediamo quindi che abbiamo un 50% di probabilità che i figli di giulia siano maschi e di questo 50% una parte erediterà da giulia il cromosoma x con l'allele diciamo dominante quindi il cromosoma sano diciamo per semplificare e una parte invece erediterà il cromosoma x con l'allele recessivo quindi il cromosoma malato qual è la probabilità che il primo figlio di giulia sia maschio e affetto da emofilia come si vede dalla tabella chiaramente è appunto un quarto bene adesso passo la parola a francesco con il quale continuerete la correzione dei quiz di biologia ciao a tutti io sono francesco del team di informed e proseguiamo adesso con la soluzione dei quesiti di biologia allora il quesito 13 dice date le seguenti affermazioni sulla divisione cellulare 1 le cicline e le chinasi cicline dipendenti sono fondamentali per il passaggio tra la fase S e la fase G2 2 nel passaggio da fase S a fase G2 è previsto un checkpoint per garantire il corretto svolgimento della divisione cellulare 3 durante la fase G1 i cromosomi passano da monocromatidici a bicromatidici 4 l'intero ciclo di divisione cellulare dei mammiferi dura circa 6 ore quale di queste è sono falsa false allora per risolvere questa tipologia di quesiti sicuramente è fondamentale intanto leggere bene la consegna perché questo a nostro avviso è sicuramente una delle tipologie di quesiti più difficili perché ci sono 4 affermazioni e bisogna riconoscere quale di queste è vero o false quindi ci sono vari trucchetti e possono essere molto ingannevoli alcune affermazioni quindi è fondamentale leggere bene la consegna e inoltre è fondamentale leggere bene appunto anche cosa effettivamente ci viene chiesto perché ci viene chiesto quale di questi sono false quindi il mio consiglio per risolvere questa tipologia di quesiti è scrivere di fianco a ogni affermazione se è vera o falsa e poi da lì andare a vedere cosa ci chiede effettivamente il quesito per non confondersi comunque allora la risposta di questo quesito è la A infatti l'affermazione 2 la 3 e la 4 sono false ma adesso andiamo ad analizzarle una per uno e capiamo perché allora 1 le cicline e le chinasi cicline dipendenti sono fondamentali per il passaggio tra la fase S e la fase G2 allora la 1 quindi non è nella soluzione vuol dire che è vera quindi l'affermazione 1 è una affermazione vera e in particolare sicuramente sì le chinasi cicline dipendenti e le cicline sono veramente fondamentali non solo per il passaggio tra la fase S e la fase G2 ma per tutto il ciclo cellulare per tutti i vari passaggi tra G1 fase S G2 e anche per il passaggio in mitosi in particolare le cicline sono delle proteine che vanno a complessarsi con le chinasi cicline dipendenti e che vengono appunto attivate le chinasi cicline dipendenti le chinasi sono sempre delle proteine in particolare degli enzimi e le chinasi hanno la particolarità di fosforilare quindi praticamente aggiungere un gruppo fosfato a determinate proteine che possono quindi poi andare a svolgere altre funzioni in questo caso per mettere il passaggio tra le varie fasi del ciclo cellulare quindi la 1 è sicuramente vera e quindi non fa parte della risposta del quesito passiamo ora all'affermazione 2 nel passaggio da fase S a fase G2 è previsto un checkpoint per garantire il corretto svolgimento della divisione cellulare questa è falsa perché è vero che in molte nel passaggio tra diverse fasi c'è un checkpoint ma tra fase S e fase G2 non è presente infatti i checkpoint sono presenti tra la fase G1 e la fase S e tra la fase G2 e la fase M quindi nel passaggio da fase S a fase G2 non è previsto un checkpoint per questo è falsa 3 durante la fase G1 i cromosomi passano da monocromatidici a bicromatidici allora intanto è fondamentale capire perché i cromosomi passano da monocromatidici a bicromatidici questo è perché si sono duplicati infatti il cromosoma AX che siamo abituati a vedere noi è quello che è quando è già duplicato infatti i cromosomi sono visibili soprattutto e specialmente nella metafase quindi siamo già nella fase mitotica dove il DNA si è già duplicato quindi siamo abituati a vedere i cromosomi a forma di X ma che sono già duplicati normalmente i cromosomi sono formati diciamo da una sola stanghetta e sono monocromatidici quindi formati da un solo cromatidio e in questo caso quindi durante la fase G1 sappiamo che nella fase G1 non si ha duplicazione del DNA ma che si ha nella fase successiva S ma si ha solo accrescimento della cellula quindi è sbagliata perché i cromosomi rimangono monocromatidici in fase G1 4 l'intero ciclo di divisione cellulare dei mammiferi dura circa 6 ore allora questa è sbagliata perché il ciclo cellulare dei mammiferi dura dalle 18 alle 24 ore tendenzialmente sì 24 ore passiamo ora al quesito numero 14 allora quale delle seguenti affermazioni riguardo ai microscopi è falsa A con il microscopio ottico sono visibili sia le cellule eucariotiche che le cellule procariotiche B una cellula eucariotica standard ha una dimensione che va da 10 a 100 micrometri circa C il nucleo delle cellule eucariotica non è visibile con il microscopio ottico D il microscopio elettronico permette di distinguere elementi fino a 0.2 nanometri circa e tutte le affermazioni sono corrette allora intanto ricordiamoci che il quesito ci chiede quale affermazione è falsa quindi dobbiamo guardarle una per una ed escluderle allora A con il microscopio ottico sono visibili sia le cellule eucariotiche che le cellule procariotiche allora per risolvere il quesito è fondamentale capire intanto qual è la massima risoluzione del microscopio ottico e di quello elettronico il microscopio ottico può distinguere elementi fino a 0.2 micrometri mentre il microscopio elettronico circa fino a 0.2 nanometri adesso poi chiaramente non è insomma un dato fisso però tendenzialmente si assume che queste siano le dimensioni la risoluzione massima dei dei due microscopi quindi 0.2 micrometri per il microscopio ottico e 0.2 nanometri per il microscopio elettronico quindi inoltre per rispondere per capire se l'affermazione A è vera o falsa o corretta o errata bisogna capire bisogna ricordarsi anche quali sono le dimensioni cellulari quindi per le cellule procariotiche siamo circa da 1 a 10 micrometri mentre per le cellule eucariotiche circa da 10 a 100 ma anche di più in realtà perché se pensiamo ad esempio alla cellula uovo che è di circa 100 micrometri ma anche l'uovo di gallina per esempio l'uovo di struzzo sono cellule uovo e vabbè hanno dimensioni sono casi limite insomma sono casi rari quindi quando andiamo a intendere una cellula eucariotica standard intendiamo appunto in questo range che va da 10 a 100 micrometri circa quindi l'affermazione A è corretta l'affermazione B anche e l'affermazione C il nucleo della cellula eucariotica non è visibile con il microscopio ottico e questo è falsa infatti è la risposta del quesito perché il nucleo è l'unico elemento cellulare all'interno della cellula che può essere visto con il microscopio ottico perché è abbastanza grande da essere visibile con il microscopio ottico quindi è più grande di 0,2 micrometri chiaramente dipende da che tipo di cellula stiamo analizzando però è tendenzialmente più grande di 0,2 micrometri quindi è visibile al microscopio ottico andiamo a vedere le altre il microscopio elettronico permette di distinguere elementi fino a 0,2 nanometri circa è vero lo abbiamo detto prima e la E tutte le affermazioni sono corrette non è vero perché appunto la C è errata che quindi è la risposta del nostro quesito perfetto passiamo ora al quesito 15 in quale fase della meiosi si forma la tetrade A pachitene B zigotene C diplotene D diacinesi e leptotene allora intanto è fondamentale capire in che punto della meiosi ci troviamo quindi già dalle opzioni capiamo che per avere queste cinque fasi una di queste cinque fasi vuol dire che ci troviamo nella profase della meiosi 1 che appunto a sua volta è divisa in queste cinque fasi che in ordine è dalla quella che avviene prima a quella che avviene dopo sono leptotene zigotene pachitene diplotene e diacinesi allora il quesito ci chiede dove avviene quando in quale fase della meiosi si forma la tetrade intanto anche qui fondamentale sapere cos'è la tetrade è data dall'unione di quattro di quando ci riscono due cromosomi omologhi quindi ci sono quattro cromatidi per quello appunto si parla di tetrade perché appunto tetra vuol dire quattro e sono i quattro cromatidi in particolare siamo nello zigotene quindi nella fase dello zigotene dove si appaiono i cromosomi omologhi che quindi appunto risultano formati da quattro cromatidi in tutto perché due cromatidi per cromosoma i cromosomi omologhi ovviamente sono per esempio il cromosoma 7 del padre e il cromosoma 7 della madre e inoltre nello zigotene i due cromosomi omologhi si uniscono in determinati punti di contatto specifici che sono le sinapsi e successivamente appunto si forma la tetrade quindi la risposta corretta al quesito è la B zigotene inoltre beh importante da dire sicuramente potrebbe esservi utile più avanti per la risoluzione di altri quesiti o comunque già che siamo qui conviene dirlo il crossing over che è il processo fondamentale della meiosi in realtà soprattutto della profase meiotica 1 avviene nel pachitene quindi nella fase del pachitene bene passiamo al quesito numero 16 quale delle seguenti affermazioni riguardanti le aneoploidie è falsa a la trisomia di sotto causa la sindrome di Edwards b i nati con la sindrome di Kleinefelter 47XXY possono essere sia maschi che femmine c le trisomie sono un esempio di mutazione genomica d le sindrome di Turner è caratterizzata da genotipo X0 e la sindrome di Patau è caratterizzata dalla trisomia 13 allora questo è un quesito sicuramente un po' più specifico e più nozionistico però sicuramente anche qui bisogna escludere le varie opzioni e in effetti non c'è moltissimo qui da capire o da spiegare sono appunto più molto nozionistiche però adesso andiamo pian piano ad analizzare tutte le opzioni allora intanto il mio consiglio per il test è di ricordarvi appunto intanto beh sicuramente la definizione di aneoploidia quindi siamo all'interno di mutazioni genomiche che quindi rendono la risposta C corretta quindi non è la soluzione del quesito e siamo all'interno quindi delle mutazioni genomiche che in particolare possono dividersi in poliploidie e aneoploidie le poliploidie si hanno quando si ha un sono presenti più di due corredi cromosomici quindi per esempio 3N 4N come ploidia che sono incompatibili con la vita umana e mentre le aneoploidie si ha quando si ha si hanno un'alterazione del numero di cromosomi ma non dell'intero corredo cromosomico quindi per esempio appunto si hanno 47 cromosomi per esempio le trisomie la trisomia 21 la sindrome di Kleinefelter la sindrome di Patau di Edwards e di Turner allora quindi sapendo cosa sono le aneoploidie possiamo andare più o meno a risolvere il quesito infatti vi consiglio per il test di ricordarvi le principali mutazioni genomiche le principali aneoploidie in particolare abbiamo la trisomia 21 che è la sindrome di Down la trisomia 18 che è la sindrome di Edwards la trisomia 13 che è la sindrome di Patau e la sindrome di Turner fondamentale è caratterizzata del genotipo X0 questo vuol dire che ci sono 45 cromosomi al posto di 46 e in particolare nell'ultima coppia di cromosomi quindi cromosomi sessuali si ha X0 quindi non è presente un cromosoma per quello siano i 45 cromosomi ed è effettivamente vero quindi la risposta la risposta D è vera e quindi la risposta del quesito essendo tutte le altre vere è la B però capiamo bene perché allora intanto la sindrome di Klinefelter anche questa da sapere è caratterizzata da 47 cromosomi perché quindi si ha un cromosoma in più ed in particolare con genotipo XXY quindi vuol dire che si hanno due cromosomi X e un cromosoma Y l'affermazione B ci dice che possono essere sia maschi che femmine in effetti potrebbe trarre in inganno perché avendo due X che ovviamente noi sappiamo che il genotipo femminile è caratterizzato che ha cromosomi sessuali XX mentre il genotipo maschile ha cromosomi sessuali XY questo potrebbe trarre un po' in inganno essendoci sia XX ma anche XY in realtà se posso darvi un consiglio il mio trucchetto è pensare al cromosoma Y e X come due caratteri come appunto quando si fanno i quadrati di Panet per gli esercizi di Mendel quindi è come se fosse appunto una grande e una piccola solamente che dobbiamo prendere il cromosoma Y come dominante e il cromosoma X come recessivo questo vuol dire che basta che ci sia un cromosoma Y che ci sia un cromosoma Y affinché l'individuo sia di sesso maschile quindi in questo caso non è vero che possono essere sia maschi che femmina ma possono essere solamente maschi quindi per esempio anche se ci fossero state 4X per esempio immaginiamo un corredo cromosomico 49XXXXY l'individuo sarebbe stato comunque maschio quindi la risposta corretta del quesito è la B perché è falsa passiamo ora al quesito numero 17 di biotecnologie quindi quale delle seguenti affermazioni riguarda la PCR è corretta a la denaturazione del DNA avviene a una temperatura di 70 gradi b la quantità di DNA che si ottiene amplificando una sequenza tramite PCR è uguale a 2 alla N dove è N il numero di cicli di PCR c la DNA polimerasi utilizzata nella PCR è chiamata TAC polimerasi ed è un particolare polimerasi presente in alcune cellule eucariotiche d è sufficiente un primer e ogni ciclo di PCR prevede 5 fasi anche questo quesito è sicuramente abbastanza nozionistico specifico e abbastanza complesso però proviamo appunto a capire qual è la risposta corretta allora analizziamole una per uno la denaturazione del DNA avviene a una temperatura di 70 gradi no la denaturazione del DNA avviene a una temperatura di circa 95 gradi quindi la risposta A non è la risposta corretta perché non è un'affermazione errata B la quantità di DNA che si ottiene amplificando una sequenza tramite PCR è uguale a 2 alla n dove n è il numero di cicli di PCR questo è vera e quindi sarà la risposta poi effettivamente del quesito e in particolare 2 alla n segue quindi una funzione esponenziale questo vuol dire perché chiaramente si parte da un filamento di DNA che viene prima denaturato quindi vengono separati due filamenti singoli e poi vengono duplicati quindi da 2 si passa a 4 poi da 4 a 8 da 8 a 16 32 64 128 quindi si va sempre più veloci e seguendo appunto questo andamento esponenziale di 2 alla n quindi la risposta corretta è la B però vediamo le altre opzioni la DNA polimerasi utilizzata nella PCR è chiamata TAC polimerasi ed è una particolare polimerasi presente in alcune cellule eucariotiche allora è vero che la DNA polimerasi utilizzata nella PCR è la TAC polimerasi ma non si trova in alcune cellule eucariotiche perché chiaramente se no dovrebbe trovarsi in tutte o in nessuna o comunque se no molte cellule non potrebbero andare incontro a PCR ma si tratta della DNA polimerasi di un batterio resistente al calore e questo perché la DNA polimerasi è un enzima quindi formato da proteine e a 95 gradi dove avviene la denaturazione del DNA avverrebbe anche la denaturazione delle proteine quindi è necessario un enzima che non vada incontro a denaturazione quindi per quello si usa una TAC polimerasi che è presente in alcuni batteri resistenti al calore di è sufficiente un primer? no sono necessari due primer questo è nozionistico e sono necessari due primer e ogni ciclo di PCR prevede cinque fasi no ogni ciclo di PCR prevede tre fasi in particolare prima la denaturazione poi il raffreddamento e poi l'allungamento quindi la risposta corretta del quesito è la B perfetto passiamo ora al quesito 18 date le seguenti affermazioni sui carboidrati 1 un grammo di glucosio fornisce 4 kcal all'organismo 2 il glicogeno per essere utilizzato a scopo energetico deve essere scisso tramite reazioni di condensazione 3 la parete cellulare delle cellule vegetali è formata per il 60% da cellulose e per il 40% da chitina 4 il ribosio 2 esosi sono fondamentali per la formazione di acidi nucleici vuole sapere quale di queste affermazioni sono corrette anche qui andiamo a vederle una per una andiamo a vedere quali sono vere e quali sono false a 1 un grammo di glucosio fornisce 4 kcal all'organismo e questo è nozionistico è un'affermazione nozionistica ed in particolare è corretta quindi la 1 l'affermazione 1 è corretta questo perché appunto un grammo di glucosio cioè un carboidrato fornisce 4 kcal all'organismo e le proteine un grammo di proteine fornisce anche loro 4 kcal all'organismo e un grammo di lipidi 9 kcal all'organismo quindi questo appunto sono gli altri dati degli altri macromolecole 2 il glicogeno per essere utilizzato a scopo energetico deve essere scisso tramite reazioni di condensazione questa è sbagliata è importante ricordarsi le reazioni all'interno delle macromolecole qua sfocciamo quasi più nella chimica in realtà però siamo ancora a un livello abbastanza basso per capire che quindi per essere dentro biologia ed è facile capire e ricordare dovete ricordarvi che quando due monosaccaridi o comunque quando si vanno ad unire più monosaccaridi si ha una reazione di condensazione perché si elimina una molecola d'acqua mentre quando si va a scindere un polisaccaride oppure un disaccaride in monosaccaridi in questo caso quindi appunto il glucogeno per essere utilizzato a scopo energetico deve essere scisso e si fa tramite reazioni di idrolisi ovvero aggiunta di una molecola d'acqua che spezza il legame quindi l'affermazione 2 è errata 3 la parete cellulare delle cellule vegetali è formata per il 60% da cellulose e per il 40% da chitina questa è sbagliata sono dati sbagliati infatti la parete cellulare delle cellule vegetali è formata per la maggior parte da cellulose mentre la chitina è fondamentale ricordarsi che è presente nella parete cellulare dei funghi quindi la differenza tra la parete cellulare dei funghi e delle cellule vegetali è che appunto nelle cellule vegetali prevale la cellulosa mentre nei funghi prevale la chitina 4 il ribosio e il desossi ribosio due esosi sono fondamentali per la formazione degli acidi nucleici allora è vero che il ribosio e il desossi ribosio sono fondamentali per gli acidi nucleici infatti l'RNA e il DNA hanno appunto il ribosio il desossi ribosio come zucchero tuttavia non sono esosi perché hanno 5 atomi di carbonio e quindi sono pentosi sono zuccheri pentosi esoso sono appunto macromolecole sono carboidrati con 6 atomi di carbonio trioso con 3 atomi di carbonio e così via insomma quindi la affermazione 4 è errata quindi l'unica affermazione vera è la 1 che quindi è la risposta del nostro quesito passiamo ora al quesito numero 19 infatti che ci chiede il ciclo di Krebs avviene sia negli eucariotiche nei prokariotiche a livello della matrice mitocondriale prevede l'ossidazione di FADH2 a FAD a inizio e termina con una molecola di acetil-CoA una molecola 3 atomi di carbonio il ciclo di Krebs è un processo anfipatico nessuna delle precedenti affermazioni è corretta allora andiamo a vederle una per una allora avviene sia negli eucariotiche che nei prokariotiche a livello della matrice mitocondriale questa è sbagliata perché negli eucarioti è vero avviene nella matrice mitocondriale ma nei prokarioti avviene a livello del citoplasma quindi la risposta A è farsa B prevede l'ossidazione di FADH2 a FAD e questo è il contrario infatti durante il ciclo di Krebs vedete viene prodotta per ogni ciclo una molecola di FADH2 da FAD quindi è esattamente l'opposto inoltre appunto vi ricordo che per ogni ciclo si forma una molecola di FADH2 quindi per ogni molecola di glucosio si formano due molecole di FADH2 perché è fondamentale per il test soprattutto perché molti quesiti chiedono appunto riferito al ciclo di Krebs quante molecole vengono prodotte di ciascuno appunto prodotto in base a se è una molecola di glucosio oppure una molecola di piruvato insomma bisogna stare molto attenti e ricordarsi ovviamente che da una molecola di glucosio si ottengono due molecole di piruvato quindi nel caso vanno duplicati C a inizio termina con una molecola di acetil-CoA una molecola a tre atomi di carbonio e questa è falsa infatti l'acetil-CoA è formata da due atomi di carbonio quindi l'opzione C è errata D il ciclo di Krebs è un processo anfipatico e questa è sbagliata infatti il ciclo di Krebs è un processo anfibolico perché non esiste un processo anfipatico anfipatico si riferisce a una molecola che presenta al suo interno sia dei gruppi idrofili che dei gruppi idrofobi mentre il ciclo di Krebs è un processo anfibolico ovvero che presenta reazioni sia di anabolismo che interviene sia in reazioni di anabolismo che di catabolismo quindi sono tutte quattro false quindi l'opzione corretta è la E cioè nessuna delle precedenti affermazioni è corretta passiamo al quesito numero 20 sul sarcomero date le seguenti affermazioni 1. il sarcomero è la zona compresa fra due linee M 2. la zona H è costituita solo da filamenti sottili di actina 3. la contrazione del sarcomero porta alla temporanea scomparsa della banda A 4. la banda I è costituita da filamenti di actina e filamenti di miosina allora per risolvere questo quesito ovviamente andiamo ad analizzare le opzioni ma prima forse conviene dare una spiegazione generale sul sarcomero così poi possiamo andare ad escludere le opzioni più facilmente allora il sarcomero intanto è delimitato da due linee Z e al suo interno sono presenti sia filamenti sottili che sono formati da actina associata a troponina e tropomiosina e sia filamenti spessi che invece sono formati da filamenti di miosina inoltre si distinguono diverse bande all'interno del sarcomero in particolare abbiamo la banda A che contiene filamenti di actina e miosina sovrapposti e la banda I dove ci sono solamente filamenti di actina inoltre all'interno della banda A è presente al centro la zona H dove ci sono solamente filamenti di miosina che vanno ad ancorarsi al centro alla linea M quindi questa più o meno è diciamo una visione del sarcomero quindi possiamo andare ad escludere adesso le varie opzioni il sarcomero è la zona compresa fra due linee M falso infatti il sarcomero è compreso tra due linee Z la zona H è costituita solo da filamenti sottili di actina no è costituita solo da filamenti di miosina ed in particolare abbiamo detto si trova al centro del sarcomero poi la contrazione del sarcomero porta alla temporanea scomparsa della banda A falso infatti la contrazione del sarcomero porta alla temporanea scomparsa della banda I cioè dove sono presenti solamente i filamenti di actina 4 la banda I è costituita da filamenti di actina e i filamenti di miosina falso è costituita solo da filamenti di actina quindi capiamo che la risposta del quesito è la E tutte le affermazioni sono false quindi nessuna di queste è corrette qua possiamo vedere potete vedere è scritto in inglese però potete vedere una piccola schema di come è formato il sarcomero e ma comunque insomma l'abbiamo appena detto nel caso qua avete un piccolo schema passiamo al quesito 21 il penultimo quale delle seguenti affermazioni riguardante il cuore è falsa a il ventricolo sinistro la parete muscolare è più spessa rispetto alle altre tre camere cardiache b il foro di botallo mette in comunicazione il cuore destro con il cuore sinistro durante la vita intrauterina c durante la diastole la valvola tricuspida è chiusa mentre la valvola semilunare polmonare è aperta di le arterie coronarie si occupano di irrorare il mio cardio e il mio cardio può essere suddiviso il mio cardio specifico e il mio cardio comune allora questo è un quesito sicuramente complesso perché ricopre un vastissimo campo dell'apparato cardiocircolatorio infatti c'è sia anatomia del cuore sia le valvole sia le arterie insomma è sicuramente un quesito abbastanza complesso che copre vasti argomenti sull'apparato cardiocircolatorio quindi è necessaria una conoscenza abbastanza approfondita di tutto l'apparato per poter rispondere comunque andiamo come al solito ad analizzare tutte le opzioni noi stiamo cercando un'affermazione falsa quindi ce ne saranno quattro vere e una falsa allora il ventricolo sinistro ha la parete muscolare più spessa rispetto alle altre tre camere cardiache questo è vero infatti il ventricolo sinistro ha una parete muscolare di circa può arrivare anche a 1,5 cm quindi è estremamente spessa molto più delle altre tre camere e in effetti è abbastanza intuitivo perché il ventricolo sinistro è in collegamento con la orta che poi quindi porta il sangue a tutto il nostro organismo nella grande circolazione nella circolazione periferica e quindi sarà necessaria una grandissima spinta e quindi per questo la parete muscolare del ventricolo sinistro è molto più spessa delle altre quindi la risposta A è corretta B il foro di botallo mette in comunicazione il cuore destro con il cuore sinistro durante la vita antoraterina questo è abbastanza nozionistico parliamo di formazione del cuore quindi appunto siamo ancora a livello del feto ed effettivamente il foro di botallo mette in comunicazione il cuore destro e il cuore sinistro e successivamente alla nascita il foro si chiude e chiaramente come sappiamo il sangue ossigenato e deossigenato non si mescolerà più nell'adulto C durante le diastole la valvola tricuspida è chiusa mentre la valvola semilunare polmonare è aperta allora intanto fondamentale sapere l'anatomia del cuore quindi dove sono le valvole in che parte destra o sinistra le varie valvole semilunare polmonare e aortica e inoltre fondamentale è anche sapere le diastole e le sistole in particolare sappiamo anche che quando non viene specificato se si tratta di atrio o ventricolo e parliamo di diastole o sistole diamo per scontato si tratta del ventricolo perché sicuramente insomma quello che fa il ventricolo è estremamente più importante rispetto all'atrio quindi quando parliamo di diastole o sistole non viene specificata se si tratta di diastole atrale o ventricolare si dà per scontato che sia ventricolare quindi durante la diastole che è la fase in cui non si ha contrazione ma si ha anzi un allargamento quindi dove il sangue fluisce all'interno in questo caso del ventricolo la valvola tricuspide è chiusa mentre la valvola semilunare polmonare è aperta è esattamente il contrario intanto ci troviamo nel cuore destro perché appunto abbiamo la tricuspide e la valvola semilunare polmonare inoltre se posso darvi un piccolo consiglio un piccolo tips per ricordarvi le valvole quindi tricuspide e mitrale sappiamo che la tricuspide tricuspide D-destra quindi D-destra e mentre mitrale left-sinistra non so se può esservi utile sono quelle cose che uno dà per scontato ti dice ah sì ovviamente la tricuspide a destra ovviamente la mitrale a sinistra e poi magari il giorno del test per un attimo l'anse da prestazione eccetera si dimenticano quindi conviene avere sempre quella quella piccola memofrase o quel piccolo modo per ricordarselo senza rischiare di dimenticarlo comunque in ogni caso è tutto il contrario infatti durante la diastola la diastole scusatemi la diastole ventricolare quindi quando si il ventricolo è molto dilatato e accoglie sangue ovviamente accoglie il sangue che viene dall'atrio quindi la valvola tricuspide sarà aperta mentre la valvola semilunare polmonare è chiusa perché il sangue non deve andare subito a ossigenarsi verso i polmoni ma deve prima riempirsi la camera ventricolare quindi la C è errata D le arterie coronarie si occupano di irrorare il mio cardio questo è vero le arterie coronarie sono le arterie che vanno appunto a irrorare il cuore perché anche il cuore necessita di irrorazione e il mio cardio può essere suddiviso in mio cardio specifico e mio cardio comune questo è vero in particolare il mio cardio specifico è quello appunto che contiene cardiomiociti specializzati nella conduzione dell'impulso elettrico che serve appunto poi per far avvenire la contrazione del cuore e il mio cardio comune invece è quello formato da effettivamente cellule muscolari che si occupano della contrazione effettiva quindi la risposta corretta al quesito è la C perché è falsa passiamo ora all'ultimo quesito di biologia il quesito 22 date le seguenti affermazioni 1 il mitocondrio hanno ribosomi propri e un DNA proprio circolare a singolo filamento 2 la membrana mitocondriale interna è molto povera di colesterolo 3 la membrana mitocondriale interna è impermeabile all'idrogenioni ma permeabile al NAD più 4 mitocondri sono presenti nei batteri a respirazione aerobica quale di queste sono false? allora questo è sicuramente un quesito estremamente complesso e tra l'altro dove vengono chieste informazioni nozionistiche che tendenzialmente non si trovano nei libri di teoria e che soprattutto non sono le classiche domande che vengono fatte sui mitocondri insomma quindi è sicuramente un quesito complesso ma in generale non abbiate paura di sbagliarle o comunque non preoccupatevi se effettivamente non sapete alcune di queste affermazioni è meglio imparare adesso che siete in preparazione che effettivamente scoprire certe informazioni il giorno del test quindi per fortuna insomma che riuscite a a imparare nuove informazioni adesso in modo da averle pronte per il test qualora dovessero capitare comunque anche qui andiamo a vedere ogni opzione andiamo a capire quali sono quelle false 1 i mitocondri hanno ribosomi propri e un dna proprio circolare a singolo filamento allora questa è parzialmente vera quindi in realtà è falsa cioè i mitocondri è vero che hanno ribosomi propri ma il dna è proprio circolare si lo hanno ma è a doppio filamento quindi non è a singolo filamento quindi la 1 è falsa 2 la membrana mitocondri all'interno è molto povera di colesterolo e beh qui è nozionistico non c'è molto da spiegare sì sappiate che è vero la membrana mitocondri all'interno è molto povera di colesterolo 3 la membrana mitocondri all'interno è impermeabile all'idrogenioni ma permeabile al NAD+, intanto l'idrogenioni non fatevi prendere dal panico sarebbero gli ioni H+, sono appunto chiamati idrogenioni ed effettivamente pensando poi appunto alla respirazione cellulare e alla fosforilazione ossidativa è facile capire che la membrana mitocondri all'interno è permeabile all'idrogenioni perché riescono a passare appunto poi creare appunto la fosforilazione ossidativa e la produzione di ATP e tutto ciò che ne deriva mentre il NAD+, il NADH NAD+, ha bisogno di un sistema abbastanza complesso che non è assolutamente necessario ai fini del test ma non è permeabile al NAD+, la membrana mitocondri all'interno quindi la 3 è falsa 4 i mitocondri sono presenti nei batteri a respirazione aerobica e i mitocondri nei prokaryoti quindi nei batteri non sono presenti quindi questa è falsa quindi la risposta corretta al quesito è la D 1, 3 e 4 perché la 1 e la 3 e la 4 sono false mentre la 2 è vera bene con questo quesito abbiamo finito la parte di biologia adesso vi lascio a continuazione della correzione buon proseguimento ed eccoci simulazione dei fatta da noi di easy chimica dentro la logica informed quesito di chimica al primo il numero 23 spero e credo che questa simulazione ti sia stata utile nella preparazione del talk ti ricordo che legata a questo c'è il pacchetto da 10 simulazioni inedite inedite quindi mai viste tutte commentate risolte nella modalità di questo video passiamo subito al dunque la parte di chimica si apriva con un quesito di stechiometria che ti spiego ovviamente all'interno del corso annuale se non l'hai ancora fatto vienici a trovare qua link in descrizione sulla nostra pagina instagram e all'interno del mini corso intensivo sempre di redox e stechiometria andiamo insieme a leggere il testo diceva il solfato di litio è un composto elegante molto usato nell'edilizia si supponga di avere 48 grammi quindi qua partivamo subito con le quantità quindi 48 grammi di idrossido di litio e una soluzione di volume 500 mililitri di acido solforico concentrato 0,2 molare quanta acqua viene prodotta deve essere rimossa al termine della reazione quesito di stechiometria la prima cosa che ti consiglio e che avresti dovuto fare era subito scriverti la reazione quindi una reazione semplice da capire è una acido base quindi idrossido di litio più acido solforico ok che cosa va a dare reazione acido base in neutralizzazione detta anche di doppio scambio va a darti solfato di litio che ovviamente è Li2SO4 se hai dubbi sulla nomenclatura guardati il mini corso premium aggiornato no con tutta la nomenclatura gratuito più acqua ed è appunto l'acqua quella su cui noi ci andiamo a focalizzare perché quello che il problema ci chiede sono appunto i grammi di H2O ovviamente è un quesito non a metodo relativo ma a risoluzione pregressa se non conosci questi termini anche qua mini corso premium gratuito di logica del quesito sempre sulla nostra pagina youtube tra lezioni utilissime per tutte le materie quello che dovevi fare era appunto andare a bilanciare andiamo a bilanciare in rosso abbiamo due litio a destra quindi ne servono due a sinistra uno zolfo e uno zolfo andiamo a fare gli idrogeni gli idrogeni ne abbiamo due più due quattro a sinistra quindi vado a mettere qua un bel due davanti all'acqua per pareggiarli contiamo gli ossigeni sono due più quattro sei a sinistra e quattro più due sei a destra quindi reazione perfettamente bilanciata a questo punto sappiamo che per trovarci le moli di acqua dobbiamo capire chi dei due eventualmente è il reagente limitante ovvero dobbiamo passare dalle moli come abbiamo visto all'interno del corso annuale partiamo dalle moli di idrossido di litio per trovare le moli ovviamente noi usiamo sempre la formula grammi fratto massa molecolare quindi 48 diviso ovviamente 24 che è la massa che ci dà il problema quindi abbiamo due moli che mi vado a scrivere qua e poi dobbiamo farci le moli di acido solforico quindi moli di H2SO4 qua era un altro metodo per trovarle dovevamo passare appunto dalla molarità quindi sono diciamo la molarità per i litri per trovare le moli molarità che era 0.2 litri che sono 500 millilitri quindi in questo caso dobbiamo andare a metterli come litri quindi 0.5 litri 0.2 per 0.5 moltiplichare per 0.5 equivale dividere a 2 quindi è 0.1 mole ok quindi a questo punto qual era il reagente limitante qua abbiamo 0.2 qua abbiamo 2 qua abbiamo 0.1 dobbiamo andare a dividere per i coefficienti stecchiometrici 2 diviso 2 1 0.1 diviso 0.1 ovviamente fa 1 0.1 scusate 0.1 diviso 1 fa 1 quindi diciamo che il reagente limitante è sicuramente l'acido solforico acido solforico che è reagente limitante quindi sarà lui a determinare le moli di acqua che si formano e da lì i grammi quindi possiamo scrivere che le moli di H2O sono uguali al doppio perché vedete che c'è il 2 davanti all'acqua e l'1 davanti all'acido solforico al doppio delle moli di H2SO4 ok quindi in questo caso andiamo a moltiplicare quindi fa 0.2 perché è 0.1 per 2 fa 0.2 abbiamo appunto 0.2 moli a questo punto andiamo a moltiplicare queste moli no per trovare i grammi di acqua quindi grammi H2O uguale a moli per massa molecolare e avremo che è 0.2 l'acqua non te la dava ok il problema la devi sapere a memoria è 16 dell'ossigeno per sostanzialmente 18 che è la sua massa quindi 0.2 per 18 è come dire sostanzialmente moltiplicare per 2 quindi 36 dividere per 10 fa 3.6 grammi quindi in questo caso la risposta corretta era la C vedete che le risposte nei quesiti a risoluzione progressa non le guardo mi faccio il calcolo e poi la vado a barrare andiamo a vedere il secondo quesito quesito 24 per quanto riguarda la simulazione secondo di chimica qui avevamo un quesito di struttura atomica quindi sostanzialmente tutta quella parte iniziale fondamentale che ha una percentuale di domanda elevatissima andiamo a leggerlo insieme ci diceva all'interno di una lampada d'ossigeno gli atomi vengono irradiati con della luce V e un loro elettrone esterno ad energia elevata quindi abbiamo un elettrone esterno quindi appartenente al guscio 2P verosimilmente che aumenta di energia quindi va in un orbitale maggiore e poi abbiamo a metodo relativo 5 risposte che siamo ovviamente per quanto riguarda la logica del quesito vai a vederti il minicorso dobbiamo andare a leggere tutto e trovarla più corretta da dove partivamo partivamo sostanzialmente dalla struttura del nostro ossigeno quindi io mi vado a fare sappiamo che è del sesto gruppo quindi è 2S2 2P4 vado a farmi i miei 6 elettroni esterni ovviamente se un elettrone si eccita va nell'orbitale 3S quindi possiamo ipotizzare che ci sia un salto che so di questo elettrone che va qui dentro ok quindi dobbiamo andare a vedere quale opzione è corretta nel definire quest'aumento l'elettrone citato manterrà costante il suo numero n ed aumenterà di un'unità il numero l totalmente sbagliata perché? perché l'n aumenta di 1 e non rimane e anche qua lo dice ma l non aumenta perché? perché per gli orbitali S l è sempre uguale a 0 e per gli orbitali P l è sempre uguale a 1 quindi sostanzialmente non è quello che accade andiamo a vedere la B l'elettrone citato manterrà costante il suo numero L no perché passa da P ad S quindi smetto di leggerla ed aumenterà di un'unità il numero n è vero però sostanzialmente non è quello che accade l'elettrone citato invertirà il numero quantico di spin che vuol dire passare da ms un mezzo a ms meno un mezzo quindi spin parallelo anti-parallelo ma questo non va a toccare l'energia dell'orbitale e dell'elettrone tanto meno quindi la vado a cancellare l'elettrone eccitato aumenterà di un'unità i numeri n e l no aumenta solo n ma non aumenta l l'elettrone citato di conseguenza sarà lei quella corretta andiamo a verificare l'elettrone citato aumenterà il suo numero quantico n vero e diminuerà di un'unità il numero quantico l vero perché passa da 0 da 1 scusatemi a 0 passando dal 2p al 3s quesito molto semplice era metodo relativo quindi ti serviva un po' di logica del quesito ma diciamo si faceva molto molto facilmente ora andiamo a vedere questo anche questo è un metodo relativo quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo il 2-etil-1-metil-esano e qui abbiamo composto allo stesso numero di atomi di carbonio del decano il composto non esiste il composto ha meno idrogeni del leptano il composto ha più carboni del leicosano nessuna delle precedenti risposte è corretta quindi sostanzialmente anche in questo caso cosa dobbiamo fare in primis la cosa più utile per poter fare questo metodo relativo era andare a disegnarlo quindi abbiamo un esano vado a fare la mia bella catena da 6 atomi di carboni 4, 5, 6 anche questo lo tratto nemmeno in corso intensivo di nomenclatura e riconoscimento gruppo funzionale e ovviamente all'interno del corso annuale e poi abbiamo due sostituenti sul carbonio 2 un etile e sul carbonio 1 un metile ok? poi per esercizio didattico possiamo completare con gli idrogeni ricordati che devi sempre arrivare a 4 come valenza del carbonio quindi CH3 eh scusami CH2 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 e CH3 perfetto a questo punto andiamo a vedere il composto ha lo stesso numero di atomi del decano il decano ne ha 10 andiamo a contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no dobbiamo cercare quella corretta il composto non esiste ebbè a sorpresa è invece questa quella corretta perché ragazzi? perché nelle regole di nomenclatura che vediamo a corso annuale appunto dobbiamo andare a contare sempre la catena più lunga noi abbiamo contato questo 1, 2, 3 scriviamo pure i numeri 3, 4, 5 e 6 ma se andiamo a farlo correttamente partendo sempre da qua è 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 questa è la catena più lunga quindi questo composto è sostanzialmente un eptano ok? a cui è attaccato un etile quindi non esiste il 2 etil 1 metilesano proprio per questa ragione e questa è la risposta che mi sembra più corretta ok? perché sostanzialmente questo composto non esiste con questo nome andiamo a vedere l'altro il composto a meno idrogeni dell'eptano assolutamente no perché è un eptano sostituito quindi ne ha molti di più il composto a più carboni dell'eicosano no per chi non ha fatto il corso annuale l'eicosano ragazzi è C20 diciamo ha 20 atomi di carbonio è l'alcano lineare ha 20 atomi di carbonio quindi no nessuna delle precedenti risposte è corretta no perché appunto è corretta la B quindi quesito a metodo relativo che si faceva in maniera molto molto agile proseguiamo andiamo al quesito 26 qua avevamo un quesito di KPS quindi prodotti di solubilità questi negli ultimi anni stanno uscendo tantissimo presente anche questo all'interno del corso annuale e del minicorso intensivo soluzioni andiamo a leggerlo insieme una soluzione è satura di idrossido ferroso cosa accade a tale soluzione se viene aggiunta della soda caustica 0.1 molare KPS idrossido ferroso 4.5 per 10 alla meno 12 anche qua anche qua sostanzialmente abbiamo la possibilità di andare ad analizzare quella che è la risposta corretta in primis andandoci a scrivere la reazione quindi parliamo di KPS quindi idrossido ferroso è Fe o H preso due volte il suo equilibrio di KPS sarà ferro 2 più più 2 OH meno ok se noi andiamo ad aggiungere dell'NaOH a questa soluzione a un composto che come vedete è poco solubile perché è un KPS veramente piccolo andiamo a creare quello che si chiama effetto iona comune che ti spiega all'interno del corso annuale e che dice appunto che c'è uno ione in comune tra i due elettroliti che vanno a sciogliersi in questo caso è lo ione OH meno per il principio di Le Chatelier che vediamo sempre all'interno del corso annuale noi andiamo in un equilibrio ad aggiungere ad aggiungere qualcosa che è un prodotto quindi l'equilibrio si sposterà verso sinistra e si avrà precipitazione di idrossido ferroso che è molto poco solubile quindi dobbiamo leggere all'interno di queste risposte qual è quella corretta andiamo si formerà un precipitato di idrossido ferroso esatto ed aumenterà la concentrazione di ione ferro 2 in soluzione sbagliato nel senso che essendo il KPS 4.5 per 10 alla meno 12 se aumenta a dismisura appunto lo ione OH meno diminuirà il ferro 2 più quindi è vera la prima parte non è vera la seconda non mi sembra molto preciso lo depenno diminuisce il prodotto di solubilità dell'idrossido ferrico non fatevi ingannare da queste risposte perché perché diminuisce la solubilità dell'idrossido ferrico sì ma il KPS che è il prodotto di solubilità quello è costante a temperatura costante quindi non varia mai ok qua cercava di confondervi per lo stesso modo non può aumentare diminuisce il pH della soluzione no perché vado ad aggiungere della soda caustica quindi aumento gli ione OH meno quindi al massimo il pH aumenta quindi la risposta corretta è E nessuna delle precedenti risposte è corretta KPS che è un argomento che reca sempre abbastanza dubbi perciò io all'interno del corso annuale del mini corso intensivo dedico molto tempo adesso e sostanzialmente come vedevi sapendolo bene era un quesito davvero facile forse più facile che abbiamo visto finora proseguiamo andiamo qua quesito di redox combustioni quindi questo non è più un quesito a metodo relativo è bensì un metodo a risoluzione progressa dobbiamo trovare ovviamente la risposta corretta senza andare a guardare il pool di 5 che ci dà ma facendoci calcoli ci chiede che volume di anidride carbonica quindi dobbiamo trovare in condizioni normali ottimo viene prodotta a seguito della completa combustione di 140 grammi di ciclopentano e non ci dà il peso molecolare mannaggia ce lo dovremo calcolare noi quindi difficoltà aggiuntiva qui si mischia anche le competenze ovviamente di chimica organica proprio perché chimica è una materia tutta concatenata dobbiamo saper far bene anche questo condizioni normali noi sappiamo che il volume occupato da una mole in condizioni normali per definizione è 22.4 litri quindi ci baseremo su questo ciclopentano ragazzi che dobbiamo andare assolutamente a scrivere per bilanciare la nostra reazione ciclopentano ovviamente è un C5 e ti ricordo che i cicloalcani sono isomeri degli alcheni quindi al posto di essere un CnH2n più 2 è un CnH2n quindi sarà C5H10 era importante ai fini della risoluzione esercizio no perché poi comunque l'acqua e l'ossigeno non sono importanti però se ti avesse chiesto l'acqua e non la nitride carbonica beh a quel punto sarebbe stato molto importante ovviamente come ti spiego nel corso annuale sono tutti prodotti di combustione CO2 e acqua quindi andiamo a bilanciarla avendo un 5 vado a mettere un 5 e io l'ho già bilanciata perché? perché non mi interessa più a questo punto andare a bilanciare gli ossigeni lo possiamo fare insieme per correttezza didattica ma non era l'obiettivo del quesito ovviamente comunque gli idrogeni sono 10 quindi vado a mettere un 5 anche qua a questo punto vado a bilanciare gli ossigeni sono 5 per 2 10 più 5 15 quindi sarà un bel 15 mezzi ok? ti ricordo che nelle combustioni puoi avere i coefficienti stechiometrici frazionari se non trovaste quell'opzione potete moltiplicare tutto per 2 diventa 2 15 10 10 ma l'importante è la proporzione anche per la risoluzione di questo quesito quindi in primis una volta che abbiamo fatto questo abbiamo fatto l'80% del lavoro dobbiamo farci la massa molecolare del nostro ciclo pentano massa molecolare che il problema cattivello non ci dà e che sarà 5 per la massa atomica del carbonio più 10 per ripassino di stichiometria per la massa atomica dell'idrogeno quindi la massa atomica del carbonio la devi sapere a memoria è 12 quindi 5 per 12 60 più 10 per 1 quindi 10 60 più 10 fa 70 proprio perché l'idrogeno se vuoi te lo scrivo in rosso carbonio pesa 12 questi sono da sapere a memoria una delle poche cose l'idrogeno pesa 1 a questo punto vado a calcolarmi le moli le moli di C5H10 come me le vado a ricavare sono semplicemente i grammi fratto la massa molecolare quindi grammi che il problema ci dice essere 140 massa molecolare che noi sappiamo essere 70 perché ci siamo calcolati bellissimo numero fa esattamente 2 moli ok a questo punto andiamo a farci le moli ecco facciamolo facciamolo qua così vediamo il dato precedente ci facciamo le moli di CO2 moli di CO2 sono 5 per le moli di C5H10 proprio perché hanno coefficiente stecchiometrico di 5 quindi sostanzialmente saranno 5 per 2 e quindi saranno 10 a questo punto per calcolare volume in condizioni normali della CO2 basterà fare le sue moli per diciamo 22.4 che è il dato che ci siamo scritti all'inizio perché abbiamo letto condizioni normali questi sono i trucchi eccellenti nel risolvere quesiti quindi è 10 per 22.4 e quindi fa 224 litri risposta corretta la A quesito che secondo me era lungo quindi magari uno poteva dire oh cavolo hai tante possibilità come scoprirai con logica di quesito di fare errori di calcolo però anche i numeri che c'erano erano numeri che si prestavano bene forse la difficoltà più grande era ricordarsi la formula del ciclopentano se non si è ancora fatta organica è normale non saperla procediamo con il quesito 28 ecco quesito 28 che invece ci porta su argomenti di struttura atomica e proprietà periodiche andiamo a leggerlo insieme ci dice un elemento con numero atomico minore di 20 ha i seguenti valori di affinità elettronica progressivi quindi qua parliamo di affinità elettronica cos'è l'affinità elettronica è quella reazione che se noi abbiamo un atomo allo stato gassoso gli appioppiamo un elettrone lui diventa un anione e in cambio ci dà un'energia questa energia è la affinità elettronica ok l'energia che si libera quando un elemento acquista un elettrone andiamo a leggere questi numeri questo è un quesito qualitativo poi abbiamo quale delle seguenti combinazioni corretta abbiamo l'elemento a numero atomico superiore al boro l'elemento appartiene al quarto periodo della tavola periodica ok e poi l'elemento ha un numero atomico sicuramente inferiore al cloro ora come si va a risolvere noi abbiamo questa serie di numeri dobbiamo andare a leggerli e come ti insegna all'interno del corso annuale quando ti spiego come risolvere queste quesite andare a vedere dove c'è il salto più grande allora primo salto è 220 549 poi abbiamo 549 872 comparabile col primo 872 1021 è comparabile con il precedente e poi abbiamo la rottura eccolo qua eccola qua la rottura 14528 quindi è un atomo che alla fine che cosa gradisce gradisce acquistare un elettrone sì poi quando è già agnonico e gli viene dato un ulteriore elettrone per diventare 2 meno più affinità elettronica lo fa volentieri sì e ci siamo levati i primi due quando è agnonico bivalente e si prende un ulteriore elettrone e va a 3 meno lo gradisce fare sì ok e ci siamo levati questo lo fa fino a che non si becca il suo quarto elettrone quindi diventa 4 meno e poi smette di esserlo perché alla quinta volta lui dice no quindi è un atomo che gradisce 4 elettroni vuol dire che raggiunge lo tetto con 4 elettroni e quindi non può avere che configurazione elettronica S2 P2 quindi può essere o il carbonio o il silicio oggettivamente perché ti dice che ha un numero atomico minore di 20 quindi questo serve per dire che non entrano gli orbitali D quindi l'elemento ha un numero atomico sicuramente superiore al boro questa è una formazione corretta perché perché carbonio e silicio stanno entrambi con un numero atomico più alto del boro l'elemento appartiene al quarto periodo della tavola periodica e qua sarebbe giusta stavo per dire che è giusta perché ho letto periodo se fosse stato gruppo sì periodo non può esserlo perché già col fatto che ha un numero inferiore a 20 non va bene andiamo a vedere l'ultimo l'elemento ha un numero atomico sicuramente inferiore al cloro anche questo è giusto perché poi dal cloro in poi iniziano a salire troppo come numero atomico quindi sono giusta la A e la C la risposta corretta è sicuramente la B quesito che era abbastanza difficile che se però hai fatto il corso annuale o il minicorso intensivo di strutture atomiche e proprietà periodiche sei straabituato a fare questi conteggi e lo facevi a occhi chiusi andiamo sul quesito 29 ok una soluzione di acido acetico del volume di 500 millilitri ok quindi qua andiamo sul pH e molarità 0.1 molare viene combinata con 500 millilitri di una soluzione di idrossido di potassio 0.05 molare sapendo che i volumi sono additivi quale sarà il pH finale pk dell'acido acetico 5 problema molto difficile questo forse è il quesito più difficile che andiamo ad affrontare e che sostanzialmente è diciamo una casistica del metodo delle tre vie che ti spiego all'interno del corso annuale come contenuto speciale quando vai a mischiare una sostanza debole con una sostanza forte quindi la prima cosa da fare ragazzi è andarsi a scrivere la reazione quindi è quella tra acido acetico quindi CH3 COOH più che cosa più abbiamo detto idrossido di potassio quindi KOH quindi abbiamo un acido debole e una base forte questo abbiamo visto il metodo delle tre vie all'interno del corso annuale ti da CH3 COOK il corso annuale ti ricordo sempre disponibile più H2O ok ora può essere un tampone può essere un problema a base forte può essere un problema a base debole dobbiamo andare a fare le moli ti ricordo quindi partiamo dalle moli assolutamente di acido acetico le moli CH3 vedete che essendo a risoluzione progressa non vi ho neanche letto le cinque possibilità non ne vale la pena di leggerlo moli CH3 COH è il volume in litri per la loro molarità volume in litri che è 0.5 molarità che è 0.1 ok quindi 0.5 per 0.1 quanto fa fa 0.05 ok e poi dobbiamo farci le moli di KOH quindi moli di KOH abbiamo il nostro volume in litri per la molarità ok e andiamo anche qua a farci il nostro conto quindi volume ancora una volta 0.5 litri la molarità è 0.05 moli litro quindi 0.05 per 0.5 è la metà e farà 0.0 25 moli benissimo ora una volta che abbiamo le moli abbiamo la nostra situazione iniziale e la nostra situazione finale ovviamente noi ce li siamo calcolati di quella iniziale quindi di acido acetico saranno 0.05 di KOH saranno 0.0 25 il reagente e di questo inizialmente ovviamente abbiamo 0 il reagente limitante è il KOH quindi al termine della reazione non ce ne sarà più e ci saranno uguali moli perché i coefficienti steghometrici sono uguali 1 1 di acetato di potassio 0.025 anche di acqua che vado a scrivere per correttezza didattica ma che non ci interessa e quante moli finali ci saranno di acido acetico ci saranno quelle iniziali quindi 0.05 meno quelle che hanno reagito ovvero uguali a quelle del reagente limitante perché hanno lo stesso coefficiente steghometrico quindi 0.05 meno 0.025 fa 0.025 moli bello 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 quindi questa casistica ci dice che abbiamo un sistema tampone come andiamo a risolvere i problemi col sistema tampone utilizziamo la formula che ti spiego all'interno del corso annuale e del minicorso intensivo pH concentrazione di ione h più uguale a k per la concentrazione di acido debole fratto la concentrazione di base debole ora il volume finale è 500 più 500 è un litro ma anche fosse stato un numero diverso avrei dovuto dividere le moli di acido base per lo stesso numero indi per cui lo faccio e lo posso risolvere direttamente con le moli quindi la pka dell'acido acetico è 5 ci dice il problema quindi la k è 10 alla meno pka quindi 10 alla meno 5 per due numeri uguali perché è 0.025 fratto 0.025 questi due si semplificano o che la concentrazione di ione h più è uguale a 10 alla meno 5 moli litro e che di conseguenza il ph sarà uguale a 5 perché è meno logaritmo quindi questo cambiato di segno risposta corretta ovviamente la d problema molto lungo molto difficile ragazzi però con easy chimica va così ci si prepara a tutto in modo da arrivare lisci e come molti studenti hanno fatto nel 2022 15 su 15 o l'anno prima 12 su 12 e se poi capita un quesito sulle nicchie 20-23 come questo non c'è alcun problema perché? perché all'interno del corso annuale vado anche a trattare tutta la parte di etichettatura e sicurezza andiamo a leggere insieme questo quesito quesito numero 30 dice uno studente in laboratorio deve maneggiare dell'aceto nitrile quindi lo deve fare con grande attenzione ok? sulla bottiglia dello stesso solvente vi sono riportati i seguenti pittogrammi la fiammette il punto esclamativo che cosa indicano? beh questo ragazzi competenze 0 conoscenze 100 è uno dei pochi quesiti di conoscenza che vi ho messo perché questo argomento non è che si presti molto alle competenze ovviamente si presta più che altro alle conoscenze quindi il prodotto è comburente andiamo a leggerlo perché ovviamente è un metodo relativo comburente e tossico ops scusatemi comburente e tossico no infiammabile e irritante si mi sembra la più corretta perché questo è il simbolo di infiammabile il punto esclamativo è irritante è un'altra cosa che vi dico all'interno del corso annuale il prodotto è infiammabile ed esplosivo no perché non abbiamo il simbolo esplosivo prodotto è comburente no il prodotto è comburente no nocivo potrebbe per il punto esclamativo quesito facilissimo se lo si sapeva difficilissimo se non si sono studiati i pittogrammi overall io ti consiglio di farlo perché è una delle nicchie che sono introdotte con il talk e che vanno avanti negli anni quindi assolutamente da fare ora andiamo a vedere il quesito 31 indica la coppia di molecole che danno le interazioni di polo permanente di polo permanente più forti ora quando io trovo questo tipo di quesito io cerco una coppia che sia molecola polare come ti spiego all'interno del minicorso intensivo VSPR del corso annuale con molecola polare poi se non ho coppia polare polare che cosa vado a fare vado a fare una combinazione di magari polare e leggermente polare allora andiamo a vedere le prime due cloro ammoniaca e ammoniaca metano queste due si eliminano da sé perché l'ammoniaca è polare no? ma sia metano che cloro sono apolari acqua e idrogeno equivale all'A e la C scusami all'A e la B perché l'acqua è polare e l'idrogeno è apolare tetrafluoruro di carbonio e ammoniaca ora questa io la lascio qua perché tetrafluoruro di carbonio è apolare l'ammoniaca è polare ma avendo tutti quei flori magari lei ma la risposta corretta è la E perché abbiamo la fosfina che è fatta così perché il fosforo appartiene al quinto gruppo quindi ha un'ibridazione sp3 come ti spiega all'interno del corso annuale quindi è polare perché la coppia è in un legame sull'atomo centrale e l'anidride solforosa ok l'anidride solforosa che è fatta così e che anche essa è una molecola assolutamente polare quindi la più corretta tra queste nonostante poi l'anidride solforosa abbia tante possibilità di combinazione scusami di combinazione è sicuramente la E andiamo poi sull'ultimo quesito di chimica quindi la parte di chimica si chiudeva con questo bel quesito di soluzioni spero che tu l'abbia trovata interessante e intrigante ti ricordo che il progetto dei prosegue con 10 simulazioni acquistabili sul coffee ok poi trovi il post qua nel link che ti può guidare e che dire grazie della tua attenzione cerchiamo di concludere in bellezza con questo quesito di soluzioni stecchiometria delle soluzioni ovviamente tutti questi argomenti sono trattati all'interno del corso annuale questo è non voglio dire particolarmente ostico però può risultare ostico andiamo a leggerlo insieme una soluzione di acido nitrico ha densità 0,1 molare scusa ha densità 1,6 kg il litro sapendo che il peso molecolare dell'acido nitrico è 192 grammi su moli determinare la percentuale in peso dell'acido nitrico nella soluzione questo se non hai fatto il corso annuale lo salti se l'hai fatto invece o hai fatto un mini corso intensivo sai che c'è una bellissima formula che ti dice che la molarità è uguale alla densità per la percentuale peso peso per 10 fratto la massa molecolare del tuo composto ora noi dobbiamo andare a fare un esercizio di matematica e trovarci questa esplicitare questa quindi posso scrivere molarità per massa molecolare è uguale a densità per percentuale peso peso che la dovrò esplicitare su lei per 10 indi per cui percentuale peso peso è uguale a molarità per massa molecolare fratto densità per 10 quindi si risolveva con una banalissima formula andiamo a mettere i numeri quindi la molarità era 0.1 la massa molare è 192 poi abbiamo 10 che è appunto la costante che ci serve per la conversione e la densità che può essere tenuta in kg litro sì perché equivale a dire anche grammo millilitro quindi la possiamo tenere come 1.6 ora come vedi 0.1 e 10 sarebbe come dire 19.2 al numeratore ti chiedo scusa 19.2 al numeratore e al denominatore sarebbe 16 quindi è un valore un pochettino più grande di 1 in particolare se vuoi essere preciso è 1.2 quindi la percentuale in peso era semplicemente 1.2 per cento come vedi anche se non arrivi all'1.2 sapendo che era 19 fratto 16 circa c'era un solo valore che rientrava lì detto ciò io ti ringrazio spero che la simulazione ti sia stata piacevole e adesso andiamo dal grande dentro la logica per vedere tutta la parte successiva ciao eccoci qui grazie Alberto per avermi passato la parola riprendiamo la correzione dal quesito 33 allora leggiamo la traccia il sottomarino ottobre rosso naviga nel mare del nord accaccia i nemici ed è immerso ad una profondità di 1500 metri sapendo che la densità dell'acqua di mare è di 1030 kg al metro cubo quanto va è la pressione esercitata all'acqua marina sulle pareti del sottomarino questo esercizio è sulla statica dei fluidi in particolare per calcolare la pressione esercitata sulle pareti del sottomarino dobbiamo utilizzare la legge di stevino quella è la pressione idrostatica che ci dice che la pressione è uguale alla densità del fluido in cui si viene immersi per g che è l'accelerazione di gravità per la profondità di immersione quindi andiamo a sostituire i nostri numeri abbiamo 1030 kg al metro cubo vi raccomando utilizzate sempre le unità di misurare il sistema internazionale poi abbiamo g che vale 9,8 ma possiamo tranquillamente approssimare a 10 e poi abbiamo la profondità di 1500 metri anche in questo caso per effettuare i calcoli in maniera più agevole 1030 approssimiamola a 1000 e troviamo circa 15 per 10 alla sesta pascal ovvero 15 megapascal quindi in questo caso la risposta corretta è la c coesito 34 sempre di fisica un raggio di luce partendo dall'aria incide sulla superficie di separazione tra l'aria ed il vetro con un angolo d'incidenza pari a 45 gradi se l'angolo di rifrazione di 30 gradi quanto vale l'indice di rifrazione del vetro? si assuma l'indice di rifrazione dell'aria pari ad 1 allora qui dobbiamo utilizzare la legge di Snell abbiamo il raggio incidente che incide su una superficie di separazione tra due materiali quindi chiamiamoli mezzo 1 e mezzo 2 in questo caso il primo materiale è l'aria e il secondo è il vetro la legge di Snell ci dice che l'indice di rifrazione del primo materiale quindi nel nostro caso l'aria per l'angolo d'incidenza è uguale all'indice di rifrazione del secondo materiale che nel nostro caso è il vetro per l'angolo di rifrazione e quindi 30 gradi quindi abbiamo indice di rifrazione dell'aria per se un di 45 uguale indice di rifrazione del vetro per se un di 30 da qui dobbiamo ricavare l'indice di rifrazione del vetro quindi formula inversa otteniamo se un di 45 su se un di 30 per l'indice di rifrazione dell'aria andiamo a sostituire i numeri quindi se un di 45 gradi è radical 2 mezzi il se un di 30 gradi è un mezzo e l'indice di rifrazione dell'aria è 1 quindi radical 2 mezzi su un mezzo mi dà radical 2 per 1 radical 2 quindi l'indice di rifrazione del vetro in questo caso è radical 2 quindi circa 1,4 coesito 35 ad un estremo di una molla di costante elastica k uguale 100 newton su un metro inizialmente a riposo viene agganciato un corpo di massa un chilogrammo il corpo viene fatto oscillare con un'ampiezza di 10 centimetri quanto vale il periodo di oscillazione allora il periodo di oscillazione di una molla si calcola come 2 pi greco radice di m su k quindi 2 pi greco per la radice della massa nel nostro caso è un chilogrammo quindi la massa agganciata alla molla k è la costante elastica e 100 newton su un metro quindi 2 pi greco per radice di 1 su 100 la radice è un centesimo è un decimo quindi abbiamo 2 pi greco per un decimo e quindi pi greco quinti pi greco e 3,14 approssimiamo a 3 3 diviso 5 mi dà 0,6 secondi quindi circa 0,6 secondi coesito 36 una mongolfiera si trova in altezza di 50 metri ad un certo istante il pilota lascia cadere un sasso quale sarà la velocità del sasso al momento e l'impatto col suolo si trascurre l'effetto dell'attrito esercitato dall'aria sul sasso allora ci troviamo nel contesto della conservazione dell'energia inizialmente il sasso ha un'energia potenziale pari a mg per h quindi energia associata alla sua quota man mano che cade questa energia potenziale diminuisce e cresce la sua energia cinetica quindi il sasso perde quota perde altezza e guadagna in velocità poiché l'energia si conserva in quanto stiamo trascurando ogni forma di attrito possiamo dire che un mezzo mv quadro è uguale a mg per h quindi tutta l'energia potenziale viene convertita in energia cinetica andiamo a semplificare la massa e ricaviamo la velocità quindi v uguale radice di 2g per h andiamo a sostituire i numeri quindi 2 per 10 g lo approssimiamo a 10 h 50 abbiamo radice di 1000 la radice di 1000 è circa 31 quindi possiamo rispondere che la velocità al momento dell'impatto col suolo è circa 30 metri al secondo come sempre vi raccomando l'utilizzo delle unità di misura alle sistemi internazionali passiamo ora al quesito 37 che è l'ultimo quesito di fisica il filamento di una comune lampadina di incandescenza viene attraversato da una corrente elettrica di intensità pari a 1.6 ampere in un secondo quanti elettroni carica elettrica 1.6 per 10 a meno 19 coulomb passano attraverso la sezione del filamento allora come si procede in questo caso l'intensità di corrente sappiamo è definita come la quantità di carica che attraversa la sezione del conduttore diviso l'unità di tempo quindi i uguale delta q fratto delta t quindi quanta carica passa rispetto a quanto tempo ha impiegato per il passaggio quindi possiamo ricavare con la formula inversa la quantità di carica come corrente per tempo quindi 1.6 coulomb in quanto il tempo è di un secondo sappiamo che sono passati in totale 1.6 coulomb vediamo quanti elettroni sono contenuti in 1.6 coulomb quindi il numero di elettroni sarà la carica totale diviso la carica del singolo elettrone quindi 1.6 coulomb diviso la carica dell'elettrone qui vediamo che si va a semplificare 1.6 troviamo soltanto 10 alla 19 quindi sono passati 10 alla 19 elettroni risposta B andiamo a analizzare ora il quesito 38 che è il primo quesito di matematica l'equazione radice di meno 2x quadro meno 7 fratto 2x uguale 5 e dobbiamo stabilire quali sono le soluzioni se ammette effettivamente soluzioni in realtà questo quesito è molto semplice in quanto la quantità sottoradrice ovvero meno 2x quadro meno 7 è una quantità sempre negativa perché qui abbiamo un quadrato con un meno davanti quindi questo termine è negativo e poi abbiamo meno 7 l'equazione tra due termini negativi è sicuramente negativa e sotto una radice pari quindi come in questo caso una radice quadrata non può essere inserito un termine negativo quindi sicuramente questa equazione non ammette soluzioni reali passiamo al quesito 39 quali sono dei seguenti numeri equivalenti a radice di 5 fratto 4 meno radice di 5 allora in questo caso notiamo subito una radice al denominatore quindi dobbiamo andare a razionalizzare come si razionalizza qui abbiamo una differenza quindi moltiplichiamo il numeratore e il denominatore per lo stesso termine però cambiato di segno quindi qui abbiamo 4 meno radice di 5 quindi moltiplichiamo per 4 più radice di 5 e anche sopra per 4 più radice di 5 andiamo a svolgere le moltiplicazioni qui abbiamo 4 per radice di 5 che fa 4 radica al 5 e poi abbiamo radice di 5 per radice di 5 che mi dà appunto 5 invece qui qui al denominatore abbiamo una differenza per una somma quindi possiamo utilizzare questa proprietà a più b per a meno b fa a quadro meno b quadro quindi abbiamo il quadrato del primo termine che è 16 e il quadrato del secondo che è 5 quindi andiamo a semplificare qui troviamo 4 radica al 5 più 5 diviso 11 e quindi la risposta corretta in questo caso era la a poesito 40 in quanti punti si incontrano i grafici delle due seguenti funzioni quindi f di x uguale x al quadrato e g di x uguale valore assoluto di x allora andiamo a graficare queste funzioni che in realtà sono molto semplici qui abbiamo x al quadrato che è una parabola che ha il vertice nell'origine e con cavità verso l'alto e quindi quella che qui ho riportato in grigio quindi questa è la nostra parabola y uguale x al quadrato qui invece abbiamo il valore assoluto di x il valore assoluto di x è come la retta y uguale x per x uguale positivo quindi per x dal lato positivo e come la retta y uguale meno x con x dal lato negativo quindi questo è il ramo x maggiore di 0 e questo è il ramo x minore di 0 quindi abbiamo una forma che ho riportato qui in rosso dove si incontrano queste tre funzioni? si incontrano sicuramente qui a meno 1 in quanto meno 1 al quadrato è uguale al valore assoluto di meno 1 poi nel punto x uguale 1 in quanto 1 al quadrato è uguale al valore assoluto di 1 e ovviamente anche nell'origine coincidono in quanto 0 al quadrato è uguale al valore assoluto di 0 quindi si incontrano esattamente in tre punti 1 2 e 3 passiamo ora al quesito 41 un'arancia di forma approssimabile ad una sfera ha una superficie che misura 100 pi greco centimetri quadri l'arancia viene tagliata con un colpello in due parti uguali quanto vale in centimetri quadrati? la superficie ciascuna di queste parti allora andiamo a tagliare l'arancia in due parti otteniamo ovviamente due metà la superficie dell'arancia intera è 100 pi greco centimetri quadrati se io taglio in due metà non otterrò due superfici di 50 pi greco centimetri quadrati in quanto nella regione del taglio quindi in questa regione appare un'altra superficie ovvero appare un cerchio quindi andiamo a calcolare innanzitutto il raggio di questa sfera che sarà anche il raggio del cerchio sappiamo che la superficie totale di una sfera si calcola come 4 pi greco r al quadrato e questo sappiamo essere 100 pi greco centimetri quadri da qui possiamo ricavare che il nostro raggio è proprio di 5 centimetri quando la sfera viene divisa in due parti abbiamo detto che appare questa superficie qual è l'area di questa superficie? l'area di un cerchio di raggio appunto 5 centimetri e quindi è 25 pi greco pi greco r al quadrato quindi 25 pi greco sempre in centimetri quadrati a questo punto andiamo a sommare le due superfici quindi la metà della superficie di prima ovvero 50 pi greco che è questa parte arancione quindi quella che ho ottenuto nel taglio e poi questo pezzo qui che sarà l'area del cerchio quindi pi greco r al quadrato come abbiamo detto 25 pi greco la somma delle due mi dà 75 pi greco e quindi la risposta corretta è la b quesito 42 supponiamo di avere due dati speciali con solamente quattro facce numerate con numeri interi che vanno da 1 a 4 quindi sul dato ci sta la faccia 1, 2, 3 e 4 lanciando due di questi dati qual è la probabilità di ottenere 5 come valore della somma dei risultati ottenuti sui due dati? allora andiamo a scrivere tutte le possibili opzioni questo è un dato a quattro facce allora può uscire uno sul primo dato uno sul secondo uno sul primo e due sul secondo uno sul primo e tre sul secondo e poi ancora 1 e 4 poi abbiamo 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4 e così via ho riportato i sedici possibili valori infatti i valori sono 4 per ogni dato quindi 4 per 4 è 16 tra la seconda 16 abbiamo 16 possibili valori quali sono quelli che generano somma 5? 1 e 4 2 e 3 3 e 2 e 4 e 1 quindi quattro possibili risultati favorevoli la probabilità quindi è 4 su 16 quattro casi su 16 ovvero il 25% quindi in questo caso la risposta corretta era la B passiamo ora al quesito 43 uno studente ha effettuato un'indagine statistica raccogliendo la seguente sequenza di 10 dati quindi 41, 59 e così via questi sono i dati che lo studente ha raccolto vogliamo la mediana di questa serie di dati come si calcola la mediana? innanzitutto i dati devono essere posti in ordine crescente quindi dal più piccolo al più grande e quindi li andiamo a ordinare quindi 37, 39 che si ripete tre volte poi abbiamo il 40 e il 41 di nuovo il 41 due volte il 42 e il 59 dobbiamo prendere il dato centrale attenzione se i dati sono dispari ci sarà un solo numero centrale se invece i dati sono pari come in questo caso abbiamo due valori centrali quindi il 40 e il 41 di questi due andiamo a fare la media e otteniamo 40.5 che è appunto la media tra 40 e 41 quindi la mediana di questa serie di dati è 40,5 passiamo al quesito 44 per quali valori del parametro reale k la parabola di equazione 3x quadro meno kx meno 2 uguale 0 ha il vertice con ascissa positiva? allora come si calcola il vertice di una parabola? siamo nel contesto ovviamente della geometria analitica dobbiamo fare meno b su 2a per l'ascissa quindi la coordinata x del vertice e meno delta fratto 4a per l'ordinata vi ricordo che delta è b quadro meno 4ac in questo caso a noi interessa l'ascissa quindi meno b fratto 2a nel nostro caso b è meno k a invece vale 3 e c vale meno 2 quindi andiamo a sostituire meno qui mettiamo meno k che è il nostro b e qui abbiamo 6 quindi troviamo k su 6 noi vogliamo che l'ascissa sia positiva quindi k su 6 deve essere maggiore di 0 questo vuol dire che k deve essere maggiore di 0 quindi quando k è maggiore di 0 la nostra parabola avrà un vertice di ascissa positiva quindi sposta corretta confermiamo la d passiamo ora al quesito 45 che è il primo quesito di logica vi ricordo che da quest'anno logica e matematica sono un'unica categoria chiamata matematica e ragionamento ovviamente ragionamento intende ragionamento logico per superare il provino per entrare a y factor è necessario ma non sufficiente saper cantare bene ed avere più di 16 anni determinare quale delle seguenti situazioni è non compatibile con la frase precedente attenzione non compatibile allora Giulio sa cantare bene ha più di 16 anni e supera il provino questa frase è assolutamente compatibile in quanto Giulio ha i prerequisiti ovvero saper cantare bene e più di 16 anni quindi potrebbe superare il provino Giulio sa cantare bene ha più di 16 anni e non supera il provino anche questo è compatibile in quanto vi ricordo che le due condizioni sono necessarie e non sufficienti quindi sono dei prerequisiti ma poi il provino deve essere fatto e può essere superato o non superato quindi nessuno mi obbliga a superare il provino se ho questi due prerequisiti leggiamo la c Giulio non sa cantare bene ha meno di 16 anni e non supera il provino ovviamente anche questa va bene perché Giulio non sa cantare bene quindi è normale che non superi il provino leggiamo la d Giulio non sa cantare bene ha più di 16 anni e supera il provino questa non va bene in quanto a Giulio manca uno dei due prerequisiti Giulio non sa cantare bene quindi è impossibile che superi il provino anche se ha più di 16 anni l'ultima invece lascio a voi la verifica Giulio non sa cantare bene e non supera il provino coesito 46 durante una passeggiata Gerardo parte da casa sua e si dirige prima ad est per 5 km poi per 7 km in direzione nord e infine percorre 3 km in direzione ovest al termine della passeggiata si ritrova su di una collinetta da cui riesce a osservare casa sua in che direzione dovrà guardare allora andiamo a rappresentare il percorso qui c'è casa sua da cui lui è partito si muove prima in direzione est poi in direzione nord e infine in direzione ovest e arriva su questa collinetta e guarda verso casa sua quindi ovviamente deve guardare in direzione sud-ovest quindi in questo caso la risposta corretta è la d coesito 47 una coppia vuole avere almeno 3 figli dello stesso sesso qual è il numero minimo di figli che deve avere per essere sicura che almeno 3 siano dello stesso sesso allora come si fa in questi casi attenzione innanzitutto a quello che ci ha chiesto ne voglio almeno 3 dello stesso sesso ma non ha detto almeno 3 maschi o almeno 3 femmine non ha specificato basta siano 3 dello stesso sesso quindi se facciamo 5 figli sicuramente 3 saranno almeno 3 saranno dello stesso sesso ad esempio potrei avere 3 maschi e 2 femmine ho raggiunto l'obiettivo perché ho 3 maschi potrei avere 4 maschi e una femmine anche in questo caso l'obiettivo è raggiunto perché ho almeno 3 oppure potrei avere tutti i maschi stesso discorso potremmo avere 3 femmine e 2 maschi ma sicuramente su 5 figli almeno 3 saranno dello stesso sesso quindi in questo caso la risposta corretta è A quindi 5 quesito 48 una cartoleria dispone di 28 quaderni 70 agende e 84 diari deve realizzare delle confezioni tutte uguali tra loro ed assortite con questi 3 prodotti quante confezioni uguali al massimo riuscirà a confezionare? allora in questo caso il numero di confezioni dovrà essere un divisore sia del numero di quaderni che del numero di agende che del numero di diari siccome vuole il numero massimo dovremmo trovare il massimo comune divisore di questi 3 numeri quindi andiamo a scomporre questi 3 numeri 28 e 7 per 4 quindi 7 per 2 alla seconda 70 sarà 2 per 5 per 7 84 invece 2 alla seconda per 3 per 7 per calcolare il massimo comune divisore dobbiamo andare a prendere soltanto i fattori comuni con l'esponente più basso quindi sicuramente prendiamo il 7 che è un fattore comune a tutti e tre i numeri e poi prendiamo il 2 alla potenza 1 quindi scegliamo proprio 2 quindi il massimo comune divisore è 2 per 7 e 14 posso realizzare 14 confezioni come saranno diciamo confezionate assortite queste confezioni? avremo 28 di iso 14 due quaderni per confezione di agende ne avremo 5 quindi 70 di iso 14 e di diari 84 di iso 14 6 quindi ogni confezione conterrà 2 quaderni 5 agende e 6 diari e riuscirò a fare 14 confezioni tutte uguali tra loro quindi sposta corretta la quesito 49 Gerardo e Francesca si sono appena conosciuti su un social di incontri e stanno chattando Gerardo dice a Francesca di essere nato l'8 febbraio di martedì Francesca risponde di essere nata mercoledì 8 marzo dello stesso anno quale tra questi potrebbe essere l'anno di nascita dei due ragazzi e vengono riportati 5 anni quindi il 2000, il 1995, il 2001, il 2003 e il 2002 sicuramente l'anno deve essere un anno bisestile perché se febbraio ha 28 giorni partendo dall'8 febbraio come martedì sommando 28 giorni arriverei che l'8 marzo è di nuovo martedì se invece vado a sommare 29 giorni arrivo che l'8 marzo è mercoledì come è successo in questo caso quindi poiché l'8 marzo cade di mercoledì sicuramente febbraio quell'anno ha 29 giorni quindi è un anno bisestile come faccio a scegliere tra questi 5 qual è l'anno bisestile? sicuramente è quello divisibile per 4 in quanto gli anni bisestili avvengono ogni 4 anni quindi qui l'unico numero divisibile per 4 ovviamente scartiamo subito quelli dispari è il 2000 2000 è divisibile per 4 quindi è l'unico anno bisestile quindi Gerardo e Francesca sono nati nel 2000 quindi la risposta corretta è l'A quesito 50 che è l'ultimo quesito di logica Gerardo è un studente di medicina e frequenta il corso in anatomia nella sua aula ci sono in totale 100 studenti di cui 70 maschi e 30 femmine l'età media degli studenti maschi è di 19 anni quella delle studentesse invece di 21 anni qual è l'età media dell'intero gruppo di studenti? in questo caso dobbiamo andare a fare una media ponderata come si calcola la media ponderata? moltiplicando il numero di persone per il valore che devo andare a mediare quindi 70 persone e i maschi hanno 19 anni 30 persone hanno 21 anni quindi faccio 70 per 19 più 30 per 21 diviso la somma delle persone che sono il nostro peso il nostro fattore di ponderazione quindi 70 più 30 andiamo a svolgere i calcoli troviamo 1330 più 630 diviso 100 ovvero 19,6 anni quindi la media ponderata di questo gruppo è 19,6 anni una piccola osservazione 19,6 sicuramente è molto più vicino a 19 che a 21 ma questo non ci deve meravigliare in quanto la media ponderata è sempre più vicina al gruppo più numeroso in questo caso sono i maschi quindi 70 è molto più grande di 30 e quindi la media sarà molto più vicina al valore dei maschi questo era l'ultimo quesito della simulazione dei ringrazio gli amici di Informat e di EasyChimica per aver lavorato insieme a me per la realizzazione di questa simulazione spero vi sia piaciuta vi aspetto qui nei commenti nel video per chiarire eventuali dubbi ciao e arrivederci al prossimo video